C'era un nano, una lippuziana, una troupe di accorpaci cinese, dodici alligatori e pure la donna ignifuga. Hai presente la donna ignifuga? No, che cos'è la donna ignifuga? Io ho lavorato con l'ultima donna ignifuga del mondo. Perché poi è successo. Cosa è successo? Cosa è successa la donna ignifuga? Buonasera a tutti e buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 177 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, alla co-conduzione, un ragazzo tanto bello quanto comodo, Stefano Rapone. Ciao. Che sei? Madonna, qua. C'è solo un lato però che è così. Sì, 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 ma questi sono lupi, perché poi noi non vediamo niente, potrebbe essere qualsiasi cosa. Stefano, vuoi raccontare al pubblico a casa che cos'hai addosso? È una pelle di montone che mi hanno passato gentilmente perché avevo freddo, che fa molto freddo. Fa molto freddo, fa molto freddo, nonostante sia fine luglio. Sì, e anche perché siamo vestiti uguali. Siamo vestiti uguali, sì, abbiamo le stesse blu, rosso, blu, un omaggio all'Aquila Calcio, chiaramente. Stefano ha pensato subito a quello. Certo. Vabbè, come siamo sempre... Ci troviamo, diciamo, all'Anfitarol Venda, siamo in Veneto, siamo sempre coprodotti da The Comedy Club, e questo ce lo siamo tolti. Come stai? Sei carico? Eh no, c'ho freddo. Però bene, parte questo bene. Tu? Beh, è un po'... Comunque è l'ultima puntata, poi per due mesi non ne registriamo più. Sì. Come finalmente? Finalmente, un po' di vacanza, un po' di... Vabbè, però un po' ti mancherò. Andiamo un po' al caldo. Ok, quindi non ti mancherò. Però ci sta, nel senso ci vediamo pure tanto. Sì. Te che fai mo'? Niente, mo' resto un po' qua nel mitico Veneto, vado dalla mia ragazza e poi vado un po' all'Aquila e poi vado in vacanza in Albania. Ah, in Albania vai? In Albania, sì. Ah, bello. Sì. Che fai lì? Fa il giro? Sì, sì, ci facciamo un giro, visitiamo l'Albania. Ma là che ci hanno? L'Euro? No. No, no, non ci hanno l'Euro. Ci sta il... L'EC. Ah. Mi sa. Sì. Forse dovrei informarmi, sì, sì, ci hanno... Hanno fatto questa scelta. Hanno fatto questa scelta. Te invece... Devi cambiare, devi farlo. Sì, devo cambiare. Devo cambiare. Capito. Te dov'hai? Io vado in Brasile. Ah, sì, me l'avevi detto. Te l'avevo detto, sì, ho un po' paura che... Ma anche loro c'hanno l'Euro, però? No, no, non c'hanno. Eh, no. C'hanno un'altra moneta... Infatti mi sembrava. Locale. Sì, tipo l'Euro brasiliano, si chiama? Sì, sì, sì. Immagino, una cosa così. No, ma lì c'ho paura che mi rubano, però... Mi hanno un po' tranquillizzato che... Se sto tranquillo non mi... Mi hanno detto che devo portare dei... Un altro portafoglio finto con dei contanti. Ah, cioè, perché se è così quando ti rubano gli dai quello? Ho tutto quello che c'ho e invece ho pochi contanti. Ah, vedi. Spero che non ci siano altri brasiliani che mi stanno guardando, perché ora sanno questa cosa. Dammi anche o otro. Come si dice? Però io non voglio fare questa cosa. Ah, no. Perché non voglio usare contanti, io uso solo... Cioè, ormai non uso più contanti, quindi... Perché fai? Soprattutto con la carta e vado lì e se mi... Mi rapinano, dico... E se ti rapinano come fai? Beh, mi dico... Cioè, non c'hai soldi, ti rapinano e te? Non ho contanti. Ah, non hai contanti. Gli dico, però, ti posso dire... Ho la mia Revolut. Ah, vedila! Hai capito? Vedi che bella. Quindi, se ti rapinano usi la Revolut. Dico questa, perché mi piace. E quindi ritiri i soldi. Ritiri i soldi e gli do quelli con la Revolut, così. E quindi, diciamo, ritireresti i soldi senza commissioni sui prelievi e pagamenti all'estero? Certo. Avresti anche accesso al tazzo di cambio interbancario, uno dei migliori possibili. Certo. Questo ti permetterebbe di risparmiare rispetto ad altre banche e uffici di cambio. Chiaro, non avendo commissioni, io comunque prendo questi soldi, però non do i soldi a troppe banche. Cioè, già te stanno a rapinare pure le banche che sappiamo essere. È questo, è la cosa. Vabbè, sarà facilissimo, perché devi solo scambiare i tuoi euro con la valuta di tua scelta nell'applicazione, oppure utilizzare direttamente la tua carta per i pagamenti. Chiaro. E quindi, se mi ravviano... Magari in Brasile c'hanno il posto, i rapinatori. Certo. Ancora più comodo facendo il posto, così faccio dubbio, così mi arriva la commissione. Chiaro, io comunque sia tracciabile anche le rapine. È giusto. Vabbè, questo mi tranquillizza molto sapere che vai in Brasile con Revolut, anche perché se ti fanno il rapimento lampo, che a volte loro lo fanno, e poi ti abbandonano da qualche parte dopo che hai pagato ritirando con questo cambio strafavorevole, ti abbandonano da qualche parte che non sai qual è, però non c'è problema, perché puoi prenotare un hotel o una casa vacanza in tutto il mondo dall'app Revolut con tariffe esclusive e fino al 10% di cashback. Capito, quindi comunque perdo i soldi, però quel 10% mi ritorna alla fine, quindi mi conviene. Eh sì, sì, vabbè, questo mi tranquillizza molto. Poi io adesso ho quella standard, però come ho fatto l'upgrade mi deve arrivare quella metal, che tra le altre cose io penso sia anche antiproiettile, quindi me la metto qua. È antiproiettile? Credo, cioè, se mi sparano comunque, cioè magari non muori, ti fai solo un po' in coma irreversibile, però comunque è meglio. Atterri sempre in piedi con Revolut. Sì, sì, certo. Vedi questo è... Certo. Devi dire qualcos'altro. No, beh, nel senso, come l'hai ottenuta? Come lo possono ottenere tutti quanti? La provi gratuitamente, ti scarichi l'app e tra l'altro, se vedi, perché tu già l'hai fatto, ma se lo fai attraverso il link in descrizione c'è pure un bonus di 20 euro. Sì. Pazzesco. Penso, ho anche imparato già che vado lì, una parola in brasiliano, una frase in brasiliano. Ah, e che è? Che è apenas un applicativo. Ah, e che vuol dire? Vuol dire basta un'app. Eppure oggi ci siamo guadagnati il pane. Beh, comunque non è certo grazie alla tua resistenza al freddo, se stiamo arrivati a 177 puntate. Non è neanche grazie ai sequestri di persona. Non è grazie a sequestri di persona, deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi andrò a presentare l'ospite della puntata 177. Signore e signori, per favore un applauso per Arturo Brachetti. Buonasera. Buonasera. Ciao. Fa freddo. Grazie. tu non c'hai altri vestiti caldi guarda neppure la pancerina ti ho messo un altro t-shirt come ha fatto lui io pure ho doppia t-shirt mutande di lana lo lasciate caldo lo saperlo d'estate vado con l'ino con l'eugane non pensavo fossero le alpi svizzeri ci siamo siamo stati presi alla sprovvista guarda Stefano come sei conciato un gatto morto se ce l'avete vivo è più caldo forse qualcuno col cane può essere che è venuto se avete un San Bernardo un bueo nasinello la pelle di cammello lo scuoiono dentro è un altro film un cammello dei colli euganei grazie grazie mille di essere venuto a Tintoria Stefano si era preparato una domanda si come stai guarda è una domanda a cui non ero assolutamente preparato però non male non male finché resisto così sui 36 e 5 va bene quando vedi la temperatura scendere vediamo 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 come va c'è un'altra domanda la seconda domanda cosa hai mangiato oggi sei andato in bagno che hai fatto oggi quindi anche tutte queste cose sono già andato in bagno vercingitori è già perché sai che quando devo andare in bagno sono in ristorante i miei amici lo sanno devo andare perché c'è vercingitori alle porte perché io a casa ho un dizionario bellissimo che è in inglese che ti evita di dire le parolacce cioè tutte le maniere di dire per non dire le parolacce le cose poco chic a tavola vittoriano allora dice c'è un vercingetorice alle porte prego è di là capito in fondo a destra certo come parola vercingetorice suona peggio puoi sempre dire c'è uno stronzo in canna è un po' volgare capito certo però è bello vercingetorice la vendetta di Montezuma ma ce ne sono tante Montezuma è quando mangi messicano no è la caghetta quella è la? sì sì ma vedi c'è tutte le ma non ho capito cos'è la? è la caghetta the quick shit ah ok quella lì ah ok ok quella che ti scappa via quella che quella che ti sfugge perché si vendica il cibo che hai mangiato the Montezuma revenge esatto ok bellissimo ma è solo per andare in bagno quando sei a cena no c'è tutto sesso cazzo figa eccetera eccetera è anche cacca bellissimo ed è spesso così ah certo certo ti fai una cultura per sopravvivere all'aristocrazia inglese se ti capita di mangiare coi reali tu sai come sopravvive tu sei pronto your majesty vercingetorice is at the door scusa vercingetorice chiama tutti dicono ah prego prego ah prego da quella parte i bagni di Buckingham Palace l'aspettano stupendo che bello che bello sono piccole chicche e ti sei mai trovato con l'aristocrazia inglese e hai potuto provare a fare questa cosa o lo dici solo con gli amici no no ho già lavorato per il principe caro Diana una volta sì al Covent Garden di New York no di New York di Londra di Londra lavorato a Natale dell'83 perché c'era una serata di beneficenza allora ogni musical di Londra portava i suoi 5 minuti noi abbiamo portato un pezzo nostro e cantavo il mio pezzo entravo da vestito da cantante lirica e cantavo un pezzettino di traviata 30 secondi così posso dire di aver cantato la traviata al Covent Garden di Londra 30 secondi e poi c'era principe Carlo e Diana che sono nel palco reale cioè da questa parte e a un certo punto nei camerini ci vediamo principe Carlo arrivare e qualcuno che gli propone un mantello una maschera si è vestito con questa mascherina veneziana però il naso usciva fuori lo stesso e poi hanno sceso delle scenografie tipo un colonnato tipo fantasia hai presente quando c'è l'ippopotama che balla e il coccodrillo e si nasconde di colonna e lui si zoppava di colonna in colonna e tutti l'hanno riconosciuto subito perché la masca la masca reale e così poi arrivò sotto il palco reale cioè sotto sotto il palco dove c'era Diana e fa Juliet are you Juliet qualcuno gli ha dato un pizzicotto lei si è alzata e rossendo era tutta carina così e poi insomma hanno preso una scala e gli ha dato un bacio standing ovation stupendo perché loro non si prendono sul serio i reali invece gli italiani sono un po' così tutti seri i politici italiani e quindi a parte principe Carlo adesso adesso è qui è reale adesso re al cento per cento e eri quindi ti stavo per chiedere se eri un po' tiso perché c'è comunque io all'inizio no però tutti i miei tecnici oh yes the king the princess erano molto più tesi loro quindi per contagio pure io vabbè dopo un po' dici magari un po' uno deve essere un po' teso prima dello spettacolo un po' di adrenalina va bene ti dà quella specie di un po' di tensione come l'hai vista Lady Diana quei giorni Diana? sì bellissima era simpatica lei scendeva le scale col culo così ah sì nel senso che si metteva sul mancorrente e poi oh she's so cute capito lo guardavano e facevano delle cose carine grande Lady Di Stefano posso no ero curioso di sapere com'era Lady Diana la principessa del nostro cuore e invece non c'è più purtroppo cioè beh sono arrivato a Londra il giorno del funerale pazzesco ah sei andato ah no non il giorno del funerale il giorno dell'incidente ah sì sì sono arrivato a Londra non mi ricordo più se era un sabato una domenica è terrato prendo il taxi nessuno in giro nessuno dico ma non è possibile che succede che succede arrivo a casa dei miei amici fa è morta Lady Diana e poi infatti il funerale è passato tre vie da noi tre giorni dopo eccetera quindi ho vissuto anche quello ti dichiari estraneo i fatti proprio assolutamente io l'hai preso dopo io ero in aereo scusa ok ok il taxi l'hai preso dopo dopo non durante posso testimoniare ok ok importante questo questo è importantissimo sì sì importantissimo noi quando viene un quando viene un artista facciamo una domanda ricorrente all'inizio che però a noi ci interessa sempre e nel tuo caso soprattutto cioè noi chiediamo un po' vogliamo sapere gli inizi come ha iniziato come ti è venuto in mente di fare quello che fai e nel tuo caso ancora di più perché tu sei abbastanza unico e quindi sì perché il trasformista non è un lavoro che è comune è anche difficile farlo spiegare a spiegarlo alla gente cosa fai trasformista la gente mi ferma per la strada mi riconosce tu sei il trasformatore della tele o peggio in Francia vous êtes l'échangiste d'internet sei lo scambista di internet certo vedo che qui è molto l'argomento bello presente no la migliore è stata una signora di Napoli una signora di Napoli fa ti mi faccia una trasfigurazione bellissimo perché la gente cosa fa ci fa un numero di spogliatoio dicono così scusa proprio a maggior ragione perché è difficile pure da spiegare a te quando è che ti è venuto in mente era un bambino piccolo magro nerd un vero nerd e quindi i miei genitori mi hanno messo in collegio così va in collegio si obbliga a giocare con gli altri e quindi fraternizzo eccetera e per fortuna in collegio c'era un prete che faceva i giochi di prestigio le magie un prete in convento con una stanza piena di libri e di di sì non è successo mai niente una stanza piena di libri abbastanza normale un prete con una stanza piena di libri ce ne sono no perché mi ricordo a te non è mai successo niente no i trucchi di magia no meglio di così mi metteva il braccio in un tubo poi mi dava fuoco bellissimo mi ficava la testa in una cassetta poi mi infilava le spade mi segava in due in due però però alla fine mai niente altro tutte quelle cose edificanti che si imparano in qualsiasi seminario questi sono i preti che vogliamo esatto questi non quelli preti maghi sei andato a Hogwarts tu letteralmente in un collegio di magia così così gli ho detto don don mi segni un trucco dai ti prego e così gli insegnò dei trucchi così potevo andare a fare il figo davanti ai miei compagni di scuola che di solito mi mettevano nel bidone dell'immondizia e bidone dell'immondizia vuoto perché eravamo in seminario quindi non eravamo in un quartieraccio eravamo in seminario erano comunque dei bully gentleman sì absolutely e poi i trucchi di magia ti hanno effettivamente permesso di essere risparmiato sì perché capisci magari una schiappa pallone però prendi una carta asso di picco oh come cavolo fai che non si diceva la parolaccia oppure non diceva cazzo ha detto culo culo ha detto culo noi ci divertivamo con poco capisci le uniche sante noi soli nudi che vedevamo erano in chiesa San Sebastiano con tutte le frecce Santa Cecilia con le tette sul canappe così è l'uniche cose che vedevamo un po' sexy Santa Cecilia c'ha le tette sì caro vedo che non hai studiato no io non ho fatto catechisi Santa Cecilia è morta martire e gli hanno tagliato i seni povera donna allora è rappresentata mentre offre come dire il suo martirio al signore c'è questo cabaret con le due tette tipo creme caramel così è cosa una terrificante però è così pensa il signore si trova questa cosa ma non sono zine della monaco no capito che devo fare ma quindi erano tutti maschi eravate sì poi c'erano le suore però però insomma a parte i baffi erano delle donne sì no ma ci aiutavano per esempio ci aiutavano a truccare le suore quando c'era la giornata del teatro la serata del teatro io ero membro del club del teatro tutti i nerd facevamo il teatro e allora ci truccavano le suore e le suore come sapete non hanno l'abitudine a tenere il pennello in mano e allora giù di colori blu rosso io ho le foto che io non faccio vedere a nessuno perché sembro una prostituta minorenne di Bangkok cioè veramente però però e lì ho cominciato a fare un numero che facevo tre donne e tre uomini no aspetta prima ancora cosa una strega una donna e un uomo una strega poi beveva un liquido magico diventava una bella donna bella naturalmente per livello suor Bernarda insomma capito e poi diventava un ragazzetto quale ero e quindi questa cosa di fare cioè di cambiarti fare già il collegio perché mi dava coraggio il fatto di di travestirmi mi dava coraggio ma non avevi visto nessuno che lo faceva no non c'era nessuno quando poi avevo avuto un numero di sei personaggi sono andato a Parigi e ho fatto l'audizione e mi hanno preso nel 79 non credevo neppure io ma ho scoperto di non essere l'unico a Parigi ero l'unico al mondo a fare quel cacchio di numeri dai tempi di Fregoli cioè dalla belle époque dal 1922 più o meno e quindi mi hanno preso subito era facile no? ero l'unico tu quindi per una cosa era una recita teatrale che facevi lì al seminario che hai scelto tu di fare questi personaggi oppure te l'hanno detto loro no ho scelto io poi mia madre mi ha cucito i costumi era molto così molto ma è una cosa che hai inventato tu cioè questa cosa sì io mi sono inventato i miei sistemi tutte le mie poi adesso mi copiano su internet tutti quanti ma io ho inventato tutti i sistemi anche se poi come dire se tu vai se tu vai indietro nei tempi già alla comedia dell'arte c'erano dei trucchi così che io non so tipo per esempio c'era Arlecchino in seguito dai suoi creditori si butta in un baule l'altro arriva Arlecchino vieni fuori esce fuori della pulcinella in qualche secondo perché lui si preparava tutto il costume zompava nel costume si cambiava di maschera però qua ai tempi era Spielberg capisci perché uno faceva un attore faceva l'attore faceva un personaggio tutta la vita no lo sapete no mica dobbiamo fare la lezione di commedia dell'arte io confesso che non lo sapevo se tu facevi il bell'innamorato ti ritrovavi anche 80 anni buonasera signorina a fare il bell'innamorato perché il tuo ruolo era quello se facevi Arlecchino cominciavi come Arlecchini morivi come Arlecchino ah pensa eh certo pensa e quindi tu hai detto io voglio fare questa cosa qui non è che hai fatto il Dams no ecco si vede no 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 non ho fatto né Catechismo né Dams mi mancano tutti gli elementi per fare bene allora ti do ripetizioni stasera magari quindi tu hai scelto che volevo fare questo questo spettacolo cambiarmi tre volte e come lo facevi cioè andavo dietro una specie di paravento mi togliavo i vestiti eccetera eccetera però all'inizio immagino non lo facessi ancora rapidamente cioè 3-4 secondi molto più lento molto più lento sì molto più lento di ora ma molto più veloce degli umani adesso come una macchina quando arriva allo stop pit no si dice così no pit stop pit stop beh mi sbaglio sempre perché sono dislessico capisco allora al pit stop infatti mi zompano addosso in tre e le scarpe cosa la parruccia tedesco e invece all'epoca cioè però facevi veramente in pochi secondi sì pochi secondi adesso non lo so perché non ho i video non ci stava però per pochi secondi sì quindi cioè da subito hai capito quello che volevi fare da piccolissimo e poi ho capito che mi piaceva e poi con le maschere c'avevo il coraggio di fare certe cose di andare in pubblico e quindi poi dopo tutti gli altri mi facevano i complimenti no ah cazzo ma sei bravo ma come fai il nerd che è bravo a fare un tubo di colpo diventa la star del collegio allora ho cominciato a godere anche di quello e poi cioè quindi e poi sono partito per Parigi e infatti quello e ci sono rimasto due anni e mezzo a parlare di Latte allora sono arrivato dal mio paese io vengo dal Canavese su provincia di Torino e quindi il Canavese tu sai cos'è il Canavese sei stato in Canavese provincia di Torino ma Canavese qualsiasi cosa non sa niente ma Wikipedia no no non sa niente Canavese provincia di Torino deriva dal fatto che nello stemma della regione c'è una foglia di canapa ah ah sì ah per cui il marchese di Valperga Caluso che era uno dei paesini più bellini più importanti aveva questo stemma con sta foglia di canapa perché si coltivava la canapa per fare le corde per fare le tovaglie eccetera ma i nobili sapevano anche altro tanto è vero che c'è una lettera del 1700 in cui una cugina di questi qua andata in sposa ad un principe portoghese scrive alla cugina per favore mandami una cassetta di quell'erba che cresce dalla tua parte che devo farmi delle tisane per i miei fumori i miei fumori quindi capito già a quei tempi capito al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le peri questo invece pensa l'avrei dovuto sapere questo perché invece questo è un argomento di studio e quindi se tu mi vedi per esempio non sono un figo perché io sono il frutto di centenario di matrimoni consanguine e i drogati stupendo perché lì si scoppavano tra cugini capisci certo tra cugini tantissimi tantissimo piaceva molto chilometro zero capisci bellissimo quindi comunque una provincia una zona illuminata sì allora arrivavo da lì quindi arrivavo da lì arrivavo dalle montagne poi ho vissuto lì così ecco e arrivato a Parigi con le mie valigie e i miei costumi e sei mesi dopo invece proprio mi era partito l'elastico della mutanda ormai capito ho cambiato la vita facevo il mio numero mi vestivo tipo Renato Zero ho avuto i capelli blu perché vicino al teatro c'era un parrucchiere che all'epoca era il primo a Parigi a fare i capelli acidi e allora c'avevano un cane barboncino povera bestia ogni settimana cambiava di colore una settimana arancione una settimana viola una settimana era quadretti la gente entrava e diceva oh merda perché si puliva i piedi pensando fosse lo zerbino e allora ho detto perché il cane sì o no e io me lo sono fatti blu e quindi come erano recepiti i capelli blu a Parigi mi guardavano nel metro mi guardavano però non mi menavano c'è un artista capisci un artista e quindi ho passato due anni e mezzo straordinari infatti questo te lo volevamo chiedere come era all'interno di quale scena facevi il tuo numero all'interno di un spettacolo di rivista il Paradis Latan che era il rivale del Moulin Rouge quindi era più intellettuale era un po' più felliniano ecco qualcuno ha visto il film Moulin Rouge sì ho una una la so di Buzz Lurman allora in quel film lì c'è un tipo che si chiama Ziedler che ha un capelli rossi con i baffi rossi che è il direttore del Moulin Rouge ma quando eri direttore di un posto tu eri anche il regista il presentatore il factotum il deus ex machina e infatti il nostro deus ex machina era questo Jean-Marie Rivière che era un tipo che fumava 80 gitana al giorno beva un litro di whisky parlava così e infatti quando io mi presentai per fare l'audizione il giorno prima mi disse in quanto tempo ti ti cambi e io dicevo ma 4-5 secondi lui fece mmm e io cazzo qui a Parigi ce n'è uno più veloce di me sono già fregato questo mmm è come dire mmm merda je vais voir ça infatti il giorno dopo ho fatto l'audizione e mi hanno preso perché ero l'unico a fare questa cosa qua e lui mi insegnò di tutto perché era straordinario come tipo sai quella generazione che facevano gli scherzi tipo amici miei tipo un giorno arriviamo alle 3 di pomeriggio in teatro sentiamo una puzza di gasolio tremenda perché ieri notte Jean-Marie Riviera ha fatto una scommessa con che ne so Jean-Paul Belmondo che andavano su in motocicletta fino alla terzo piano del teatro non si può più fare noi andavamo mi sono comprato una macchina a traction avant del 1957 presente quella di tipo paperon de paperoni dei poveri col predellino fuori eccetera solo che il problema è che le macchine di quei tempi avevano l'autista e l'autista ero io quindi tutti i miei amici dietro stravaccati e io lì così a guidare il camion capito e andavamo a Versailles a farci le canne per dire tra i laghetti parcheggiavi tra il secondo e il terzo laghetto adesso se arrivi a due chilometri ti sparano perché pensano un terrorista però a quei tempi si poteva con i capelli blu con i capelli blu e la Francia era perché si sapeva che lì c'era quella situazione artistica c'era fermento c'era perché si andava pure lì a Parigi ma si perché per il genere di spettacolo che facevo non c'era in Italia c'erano dei piccoli varietà delle cose ho fatto un'audizione per Erminio Macario che era un comico del teatro del varietà mi aveva pure preso ma non c'era mercato poi a Parigi c'era fermento si andava a dormire alle sei di mattina mentre arrivavano gli altri anzi mentre partivano diciamo gli operai prendevano il metro noi tutti truccati tutti pitonati tornavamo a casa però ognuno non ci si cagava a Vicenza però per esempio di sera dove si va stasera il giorno è oggi giovedì c'è una tipa nera che canta in una discoteca al palazzo andavamo a vedere questa tipa nera con 40 uomini in gabbie era Grace Jones così capito conoscete che Grace Jones qualcuno ecco allora per dire c'era fermento ogni sera c'erano delle cose c'erano molti più soldi guadagnati anche un po' così diciamo esentasse quindi la gente investiva faceva le feste e che altri all'interno dello spettacolo totale che altri numeri c'erano c'erano tanti balletti c'erano balletti scene c'era una guerra 15-18 in cui c'erano due aerei due aerei francesi che erano parcheggiati no sì un aereo francese parcheggiato in scena due aerei tedeschi che arrivavano dalla galleria così ma piccoli dentro c'era un cascador in ogni aereo e siccome il padrone del teatro era un po' così tirato un po' tirato di soldi non gli pagava il motorino quindi dovevano girare il macinino per far girare l'elica capito così e arrivavano con un cavo agganciavano l'aereo francese e poi c'era un compartimento sulla testa degli spettatori così con le palle le pallettone a salve no all'arme blanche sembra sinceramente bellissimo questo durava quattro minuti io facevo il soldato tedesco il soldato francese ci ammazzavamo tra i tavoli era divertente poi c'era poi c'era un numero di trapezista una trapezista fantastica perché lavorava senza rete quindi se cadeva ammazzava tre persone della platea tanto per cominciare però era bello perché lei non potevi parlargli per almeno mezz'ora prima del numero perché lei veramente andava in scena così e lui il dirigista gli aveva messo una bella marcia funebre come in tratta ce soir mesdame la trapezista la cariatista questa marcia funebre lei che arrivava così piena di strass questo è stato divertente però poi ho fatto l'anno dopo anzi due anni dopo ho fatto uno spettacolo più strano c'era un anno una lippuziana una una troupe di accorba cincinese dodici alligatori eppure la donna ignifuga hai presente la donna ignifuga? no che cos'è la donna ignifuga? io ho lavorato con l'ultima donna ignifuga del mondo e perché poi perché poi è successo cosa è successo? è certo cosa è successa la donna ignifuga? un giorno il trucco non è andato allora ci stavano nel settecento allora facciamo una lezione oggi per quelli come lui che hanno evitato il dumps nel settecento c'era una tale signora si chiamava Girardelli italiana che faceva la donna ignifuga cioè andava in giro per le fiere e si faceva mettere in un forno da pizza pur non chiamandosi Margherita e usciva fuori con la pizza cotta e lei no capito? sopravviveva a questa infornata e questo era il suo numero viveva così la Girardelli c'è in parecchie litografie eccetera testimonianze eccetera poi si perse questa bella tradizione e da noi capitò invece Kira von Pirun la fireproof woman e lei era una tedesca molto feliniana cinquantenne bionda alta così che la incontravi nelle quinte dicevi come fa Kira ma non hai paura del fuoco no tu non ti fai avere paura di fuoco fuoco deve avere paura di te dico sì vabbè Kira però allora il suo numero consisteva in questo a un certo punto noi dicevamo perché io presentavo Kira von Pirun c'era una nebbiolina blu e nella nebbiolina blu arrivava lei che era vestita con dei tacchi a spillo un mantello fatto di lamette da barba e sotto c'aveva un bikini di ferro battuto gli occhiali da saldatore tutti come dire circondati di strass e un turbante allora lei arrivava lì con questa nebbiolina si girava e ci aveva nel mantello ci aveva già un bel po' di arsenale toccava un contatto e il mantello prendeva fuoco faceva una specie di fungo di 5 o 6 metri e la gente sentiva fin dalla quinta sesta fila sto calore immagina adesso con le regole che ci sono nei teatri non ti puoi neanche accendere una sigaretta nei teatri però allora posava la mantella e rimaneva con questo bikini ma ciò che la gente non vedeva è che tutto il suo corpo era avvolto da una come dire sottile lanuggine color carne di cotone fulminante una cosa illegale che si faceva lei col marito una specie di cotonina che prende fuoco è presente i maghi quando fanno e fanno la fiammata quelle cose lì anche nei film lei aveva tutto il corpo avvolto da questa cotonina quindi lei si toccava qui un bracciale c'aveva un contatto e il braccio prendeva fuoco un altro contatto poi si metteva così e ciò che abbiamo scoperto dopo qui in testa c'aveva la Santa Barbara cioè un panettone esplosivo pieno di licopodio magnesio tutte le cose più illegali che potete immaginare diserbanti non lo so il marito tanto per partire le regole le regole che c'erano per la sicurezza antifuoco nel teatro il marito con un lanciafiamme dalle quinte gli sparava sta scoreggia di fuoco tra le gambe arrivava qua tutti il magnesio che è un tipo fuoco artificiale cadeva è finito la musica la luce ritornava le soglieva gli occhiali tanke 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 bellissimo era però però ecco però purtroppo eravamo a Mannheim questo è uno spettacolo che faceva un enorme successo quindi doveva durare due mesi è durato un anno e mezzo quindi facevamo i palazzetti dello sport proprio in grandi luoghi come il Sir du Soleil quindi a Mannheim eravamo in una specie di Stadthalle da 4.000 persone e c'era il palcoscenico e i camerini li avevano montati dietro il palcoscenico quindi noi uscivamo dalla scena e vedevamo questo perimetro di camerini senza tetto dove ognuno si cambiava eccetera e una sera noi usciamo dal finale e lei probabilmente abbisticciato col marito non lo so chiude questo bauletto con tutto l'esplosivo questo bauletto esplode e noi vediamo una specie di mini bomba atomica così sollevarsi 10 metri più in là alta 13-15 metri e lei che esce in fiamme dal camerino e tutti addosso a spegnerla con le coperte eccetera non con le coperte e quindi finalmente la donna ignifuga aveva finalmente preso fuoco povera donna ed è rimasta è rimasta pare in un liquido per sei mesi per ovviamente recuperare e l'anno dopo gli ho chiesto ma che fine ha fatto Kira von Biron è tornata a fare il suo numero perché quelli del circo sono così loro se fanno un numero di trapezio devono morire sul trapezio perché penso sia proprio una questione di droga di esaltazione di adrenalina c'è questa questa adrenalina che ti dà il rischio della morte probabilmente è una cosa impagabile quindi continuano per tutta la loro vita a sfidare la morte è bellissimo questa è una particolarità dei circensi stupendo e quindi adesso c'è riuscita nel suo intento di adesso spremente adesso in un'urna Kira von Biron the fireproof woman dice la natura ha avuto sopravvento così come avrebbe voluto così e ogni quante serie a settimana ti esibivi va sette era il minimo ah proprio poi quando lo spettacolo è molto successo otto nove cioè cominci a fare le doppie le doppie il sabato la doppia domenica eccetera che alla mia età fare la doppia sia prima che dopo lo spettacolo è una grande impresa no no ci riesco ancora adesso tre anni fa ho fatto la tripla a Parigi prima del covid tre spettacoli lo stesso in un giorno sì il one man show quello è madonna questo è abbastanza così capisci capisci il tototitolo però era una sfida perché era nevicato quindi c'è stato un giorno in cui non abbiamo potuto recitare tipo il martedì è sempre esaurito quando è che lo recuperiamo sta giornata dice beh l'ultimo sabato facciamo un ognun più te la senti di farne tre dico io e il mio direttore di scena noi sì e tu perché sai i tecnici c'è sempre un po' di non dico antagonismo di lotta giusta di competizione io sì e voi allora allora se poi tre one man show e l'abbiamo fatta mazza questo veramente non riesco a immaginare perché io c'ho il sistema io c'ho un lettino da campo nel camerino e quindi vado a fare i sonnellini brevi come Maradona non Maradona con l'altro lì no mi sa non Maradona l'altro porco Giuda ma sempre calciatore sì dai quello che fa i sonnellini mangia pollo Ronaldo Belè eh Belè Ronaldo Ronaldo fa i sonnellini ah Cristiano Ronaldo sì sì perché il cervello dell'uomo in fondo noi lo sopravvalutiamo ma è una gallina il cervello dell'uomo capito me lo diceva un amico mio che fa c'ha 50.000 galline amico uno che ho conosciuto che è nel sud dell'Italia c'ha 50.000 galline allora dice ma tu vedi le galline ti dai otto ore di luce e pensano che la giornata fanno un uovo poi gli dai sei ore di buio e pensa che la notte dorme poi gli dici otto ore e in una giornata ti fanno due uova dico ah ha capito la gallina allora dico io ho come dire mi sono come dire attivato per ecco per attivare l'ipotalamo del mio cervello proprio il cervello più preistorico dove ci sta la gallina capito per cui gli do una giornata poi gli faccio mezz'oretta di sonno lei pensa capito che è passata la notte mi risveglio alle otto e mezzo faccio tè e biscottini e ricomincio la giornata e faccio un altro spettacolo e funziona questo sì funziona il problema è addormentarsi perché alle 4 le 5 di mattina sei lì sul tapirulano dell'albergo e dici cazzo perché non dormo tutto così legale senza come dire senza meraviglia della chimica capisci ma infatti c'è tu come fai uno stile di vita per cui ti alleni anche la notte ho sentito questa cosa o no? sì quando mi faccio ginnastica spesso a mezzanotte l'uno mi metto completamente nudo davanti allo specchio e poi faccio ginnastica come mai completamente nudo davanti allo specchio? perché perché capisci che tu dici ma ti guardi e dici porco giù e vedi il rotolino qua il Titanic qua che sa e dici allora ancora ancora 10 eccetera poi funziona funziona perché vabbè perché di solito non ti fanno entrare nei ristoranti vabbè lasciamo per ma e tipo quanto dormi tu in genere? dormo a pezzetti dormo 4 ore poi mi vengono le angosce e poi altre 4 magari se ci riesco cioè ti svegli per le angosce e poi sì ho dei sogni tremendi quindi piscine di sangue cose così sì sì con le braccia tipo poltergeist non si direbbe no infatti e da qualche parte bisogna pagare il prezzo ma da sempre fai questi sogni sì sì perché ovviamente c'è sempre l'ansia da prestazione riuscirò ancora a fare andremo lì dovremo fare un nuovo spettacolo adesso ne sto preparando uno e c'è sempre l'ansia da prestazione meno male capito perché finché c'è la carota c'è speranza è presente? sì la carota sì è l'unica cosa la carota lui va e tu devi avere sempre un progetto allora siamo sé se c'hai un progetto la vita continua se tu invece non ce l'hai tu la carota te la metti dove so io e dormi e muori praticamente invece no la carota devi tenerla davanti perché la carota è quella che ti fa andare anche se dartano dice il bello della vita è il viaggio non arrivare a mangiarsi la carota se no dici cazzo sapevo di carota sapeva di carota invece se non l'alzaggi chissà cosa di che cosa saprà questa carota no? sì sì questo è penso sia anche l'unico modo per continuare a fare quello che fai tu per tutti questi anni perché comunque è faticosissimo ma guarda proprio a parte gli scherzi io nel 2004 avevo il teatro pieno a Parigi bellissimo teatro 1800 posti pieno per 6 mesi 7 mesi 8 mesi poi mi ero pure innamorato poi c'avevo anche un po' di soldi che finalmente si era arrivato quindi tutto andava bene e non riuscivo a dormire allora sono andato da uno psicologo ha detto allora cominciamo o le pastiglie o un po' di terapia dico cominciamo con la terapia e allora ha fatto 5 sedute e lui alla fine delle sedute mi disse guarda tu sei arrivato in cima alla montagna no? sei arrivato prima hai piantato la tua bandierina tutti contenti la banda municipale non è presente no? e tutti gli amici bravo bravo e tu sei lì tutto contento tutto goduto e poi pian piano gli amici se ne vanno eccetera eccetera la banda pure e tu sei lì e senti le acuile in lontananza che mi sembrano più gabbiali però insomma senti le acuile in lontananza sei lì da solo e dici che cazzo faccio? e dice tu devi scendere dalla montagna aspettare che la nebbia si dirada e vedrai una montagna più alta più bella davanti a te e incamminati verso questo viaggio e lui mi dice allo psicologo guarda che io ho dei clienti che sono diventati direttori di banca dopo vent'anni di struggle di fatiche e poi quando arrivano lì in cima alla piramide dicono tutto qui e devo curarli cioè viene la depressione eccetera eccetera quindi è vera la cosa bisogna sempre avere dei progetti e io dico cazzo ho pagato 400 euro per sentire questa favoletta cinese invece aveva ragione il psicologo capisci perché pian piano ho cominciato a addormentarmi non so perché perché il nostro cervello da solo se l'è digerita capito e scusa ma allora a Parigi teatro pieno sei mesi bellissimo un po' di soldi e che altra montagna hai visto? e poi io volevo fare uno spettacolo con altri abbiamo fatto gran varietà poi ho lavorato in una sitcom in America ah sì? sì veramente non lo dico con grande onore perché infatti no non c'è scritto l'abbiamo trovato abbiamo studiato un po' perché andò molto male questa sitcom che sitcom si può dire il nome della sitcom che sitcom era? come si chiamava? si chiamava N.I.K.K.K.I. faceva un ruolo di un italiano costumista un ruolo così però la Warner Brothers e quindi sono passato tre mesi a Los Angeles che c'è scritto dappertutto sui muri Los Angeles the world capital of entertainment dico cazzo che figata primo giorno wow wow poi dopo tre giorni che palle non c'è niente perché non c'è niente tutta una serie di autostrade cioè una grande città 60 km per 60 dal residence dove abitavo io per andare a prendere il caffè dicevo vorrei prendere un Starbucks ah sì sì prenda la macchina dieci minuti sulla G9 poi è uscita tal dei teatri cioè per prendere un caffè devi fare un quarto d'ora in macchina autostrada è proprio enorme quindi c'è scritto the world capital of entertainment ma lì non succede niente anche i miei colleghi dicono ma c'è un posto dove andare un teatro c'era il comedy show dove facevano le improvvisazioni tra l'altro mi sono ritrovati tutti quei colleghi che facevano poi adesso su internet quei programmi di improvvisazione teatrale a Los Angeles eccetera eccetera ma a parte questo niente altro ecco ciao salutam basta che non scaricano il cesso proprio qua perché insomma io mi domando ma dove va a finire non è come sui treni che cade e finisce sui binari non si cade che cade qua ce lo becchiamo noi mi sono pure vestito di bianco però forse dall'acqua si nebulizza diciamo che se nebulizza arriva sì sotto forma di neve però è stato bello perché l'esperienza era quella se vuoi ti racconto ma è un po' lungo no vai dici tu come si lavora in una sitcom americana per esempio allora lunedì mattina tu sei in albergo alle 8 di mattina vado alla porta e c'è un malloppo così un volume di 200 pagine ed è la puntata c'è la puntata allora io comincio a guardarla e leggevo il mio nome era Antonio il personaggio Antonio tre battute vabbè benissimo perché sa dura 25 minuti tre battute cazzo tre battute allora al mezzogiorno vado negli studios poi arrivi negli studios c'è quello che proprio con il birretto con scritto W B no simbolo della Warner Brothers e tu fai hello sir ti senti Bugs Bunny cazzo no così oppure Gloria Swanson e tu arrivi perché giallo studio 15 ci sono anche le altre macchine dei colleghi vai entri dentro meno 12 perché c'è l'aria condizionata e poi ci sono tutte le scenografie della puntata cioè noi sentivamo queste risate soprattutto dai i telefilm le sitcom di una volta c'erano le risate dici finte non è vero sono risate vere c'è proprio una serie di scenografie in lungo e poi una lunga platea non molto profonda ma in cui ci stanno 400 persone perché la puntata viene poi registrata il venerdì con il pubblico allora io bello bello arrivo col volume ci fanno sedere tutti in un tavolo grandissimo e cominciamo a leggere le battute e dentro di noi tutti quelli degli uffici che fanno da cavie che ridono oppure non ridono e gli autori prendono nota e quindi io mi imparo le battute i miei colleghi no no non impararle non impararle dicono come no perché tanto le cambiano e in effetti il giorno dopo alle 8 di mattina altro mallopo e le battute sono cambiate e quindi i primi tre giorni si lavora due ore al giorno proprio niente che poi il resto della giornata dico adesso sono le due che cazzo si fanno I got to the swimming pool ok vabbè dopo il quinto giorno che vai dalla swimming pool ti rompi anche un po' no il polghetti no il museum l'ho visto 5 o 6 volte l'osservatorio anche lì quando c'è un cazzo da fare andavo a prendere caffè all'osservatorio quello di La La Land hai presente bellissimo insomma mi sono rotto tanto i coglioni però poi finalmente giovedì giovedì arrivi lì e c'è il testo definitivo allora fai le tue posizioni eccetera eccetera poi vai vai in camerino e dietro questa scenografia ci sono montagne di cibi perché gli americani mangiano sempre no allora qui hanno questa coscia di pollo gli danno un morso la buttano via madonna uno spreco tremendo e poi vedevo uno che ho scritto Antonio qua un ragazzo tra l'altro di colore che ho scritto Antonio dice chi è lui ah ma quello sei tu in che senso io stand in cioè dice perché l'attore capito tre battute si stanca molto a dire tre battute l'attore pensavo agli spettacoli italiani dove capito e allora c'è uno che prende le luci al posto tuo cioè va lì fa tutte le tue posizioni quando l'attore è in camerino a guardarsi non so il cartone animato a fare i videogiochi e così finalmente venerdì si registra la puntata con il pubblico e ogni scena durava quattro minuti sono blocchetti da quattro minuti si faceva per quattro volte cioè prima volta tutti ah 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 how are you ciao poi dopo stop bene stop e poi arrivavano gli autori facciamo il summit allora quella battuta lì aspetta uno secondo prima dirla eccetera tu cambia quella battuta dici la sua la sua ok 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 take two hai capito sì quindi facevano le piccole correzioni la gente rideva uguali perché sono americani ridevano uguali e poi dopo alla fine nel giro di un'ora e mezza o due ecco era tutto finito poi c'era il weekend cosa fai il weekend go to las vegas las vegas cioè no mi sono rotto le palle va bene però è stata una bella esperienza che non rifaresti dipende sai così no poi dopo dietro c'erano quelle vie adesso le riconosco c'è un incrocio di vie che poi ho rivisto in tanti film sono quelle che hanno usato in ritorno al futuro cioè vedi una settimana passi c'è la banca il negozio di caramelle eccetera la settimana dopo bombardamenti buchi terza quarta settimana tutto 1940 1930 perché la stessa via viene truccata oppure ci sono le casette c'è una casetta vittoriana una casetta degli anni 60 una casetta non so di settecentesca tutto in sette noni no scusa sette ottavi sette ottavi in proporzioni sette ottavi mi seguite buonanotte no perché c'è la copertina qui no di nuovo io assumo il ruolo di quello che sta per chiedere sette ottavi in che senso in che senso che tutto bravo allora sette ottavi è perché perché la proporzione vera di una porta che magari deve essere due venti è fatta in sette ottavi un po' più piccola quindi l'attore sembra più grande ah vedi hai capito hollywood oh mi dà mi soddisfazione oh e quindi sempre gli attori sembrano più grande rispetto alla scenografia voilà e perché hanno bisogno di far sembrare gli attori più grandi non lo so forse per una questione di ottica sai che Tom Cruise recita sempre su Sgabello c'è un casino di trucchi così che non sappiamo noi questo è Tom Cruise qui non c'è andata delle feste delle cose ma dove io pensavo di vedere gli antichi romani nella caffetteria capito gli astronauti no non hai diritto di uscire col tuo costume dagli studios dietro di noi c'era Spielberg che girava IA artificial intelligence niente c'erano tutte le guardie bodyguards eccetera eccetera poi c'era lo studio blu con la piscina c'era un pezzo di battella perché registravano The Perfect Storm e quindi ogni tanto aprivano i portelloni fuori una nebbia pazzesca perché facevano girare del fumo c'era una piscina grande come qui e basta però poi nel film la incastonavano con il digitale e c'avevi tutto il battello parliamo d'altro parliamo d'altro basta mi sto annoiando chi c'era in questa sitcom? c'era questa Nikki che era una bella tettona però non ricordo altro signorina Procacce molto carina ma brava devo dire brava brava senti per parlare d'altro è vero che tu anche nella vita fuori dal palco di usi i costumi di mascheri di travesti c'è arrivata questa mi travesti in che senso? no perché detto così usi i costumi c'è poverino ogni tanto per rotto andare va sulla tangenziale eccetera non è che io sia molto conosciuto perché non sono un sex simbolo uno che fa tanta televisione però la gente con questa roba qua mi riconosce subito allora ti ritrovi a fare i selfie nel supermercato facciamo un selfie davanti alla cartigenica quella che penso non voglio passare alla storia così capito? allora mi metto un cappellino e già lì passo abbastanza inosservato però a Torino che è la mia città veramente mi conoscono tanto e quindi ho due looks principali una parrucca un po' lunga la barba un po' lunga che sembra un pusher capito? per cui non mi fanno entrare nei posti perché sembra un pusher in certi altri posti invece mi invitano perché sembra un pusher però questo è un look e poi c'è un altro look con una parrucca di Jean Paul Belmondo che io ho ottenuto ereditato da Jean Paul Belmondo perché quando quando ho cominciato l'uomo dei mille volte al teatro Marigny di Parigi sono arrivato prima di me c'era Jean Paul Belmondo che faceva l'otello ok allora apro tutti i cassetti del camerino camerino numero uno adesso è un one man show capito? e io metto le mie cose apro il cassetto e vedo 5 o 6 parrucche no? tra cui questa qua cinematografica bellissima no? come dire è fatta su un tulle trasparente con tutti i capelli puntati uno per uno costa 3000 euro una parrucca così quindi e ho detto ma alla sarta del teatro ma questa parrucca ah si vede che Jean Paul Laublie ah beh Laublie dimenticata vabbè e dico e cosa succederà ah non so verranno a riprendersela ah ho provato mi andava bene cazzo sembro proprio un altro un po' riccio così allora tanto per non fare il ladro italiano l'ho cambiata di cassetto verranno a ritirare le parrucche boh dovranno cercare anche quella lì no? e infatti sono stato lì due mesi erano tutte lì ancora allora dico allora la parrucca di Jean Paul la sarta mi fa je n'ai rien vu je n'ai rien vu allora je n'ai rien vu c'ha pas su l'ho presa capito l'ho portata a casa poi me la sono ristretta perché mi stava un po' larghina e veramente sembro un altro ti farò vedere le foto vuoi vedere la foto? no dopo no 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 anche adesso no comunque sia sembro proprio uno sfigatone capisci e allora con questo mi travesto da prete da prete riccio ma riccio riccio con il brizzolato non voglio pagare nessuno pagare con codici l'ho abituato che quando vede una prostituta subito a carta certo e quindi chiaramente no sto scherzando allora vedi cosa mi fai dal regimicrofono fai tu fai tu allora codice no riconoscimi perché a volte quando sono truccato non mi riconosce neanche il telefono telefono archivio preferiti sono io anche qua e vai qua non prete no no qui sto facendo una vecchia duquesa che ho fatto in un'opera due mesi fa sì ma mi sono divertito da pazzo allora preferiti allora allora questo qua ecco questo qua è il pusher sì posso vederlo certo confermi sì sì è un pusher un pusher torinese tra l'altro è un pusher per bene come sono i pusher a Torino tranquilli sì tranne quelli vengo da un seminario quindi che cazzo di pusher posso fare e questo è Don Lorenzo ah ebbè sì c'è anche il nome Don Lorenzo pazzesco Don Lorenzo sì madonna Don Lorenzo è clamoroso Don Lorenzo fai lo zoom che ti viene bene fallo qua così anch'io ne beneficio allora Don Lorenzo ogni tanto lo usciamo capito i miei amici dai facciamo uscire Don Lorenzo e usciamo andiamo a fare niente a fare cazzate perché tutto quando quando tu sei vestito da preta tutta la realtà acquista un'altra dimensione che ne so se siamo a tavola al ristorante che poi ci fanno lo sconto tutto è bellissimo guardate allora magari ti scappa di dire eh vabbè ma che cazzo dici ma Don ha di nuovo detto cazzo scusate c'ho sempre questo cazzo in bocca e tu devi vedere tu devi vedere le tavole vicini cioè stanno lì col cucchiaio così perché dico non è possibile comunque siamo andati per esempio vestiti da Don Lorenzo siamo andati in giro in macchina quando c'era la notte bianca a Torino ogni tanto in ogni città ormai fanno la notte bianca allora usciamo Don Lorenzo e facciamo la notte bianca va bene allora nel mio macchino c'ho una macchina un po' grossa per fare le tournée io guido vicino a me un'amica tutta pittonata capito con gli orecchini beh là insomma e dietro altri tre trentenni quarantenni perché io i coetanei non li frequento perché i miei coetanei parlano solo di prostata di moglie scappate quindi non è tristissimo quindi frequento gente più giovane e quindi tutti con questa macchina la musica a palla ai dodici all'ora perché quando c'è la notte bianca tutti vanno ai dodici all'ora e allora vedi che la gente vede così i torinesi vede il prete con altri quattro così e io leggo qua un sottotitolo io lotto per milo a questi bastardi l'anno prossimo non glielo do più proprio lo leggo però mi diverte capito ma tipo interagisci anche con le altre persone interagisci anche con altre persone sì 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 la prete sì 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 tipo che tipo c'è un negozio di consorelle dette le pie ladre vicino a casa mia sì che che vendono vendono oggetti religiosi non che candele candelotti eccetera che vanno benissimo in bagno se vado così mi guardano storto sì cosa vuole se invece vado come Don Lorenzo oh buongiorno padre cosa vuole le candele ce le abbiamo di grosse di piccole di tutti i colori c'è subito un entusiasmo così ma le pie ladre gli hai dato tu delle ladre no no sono reputate così nel quartiere ah ah cioè sono delle donne pie ladre perché costano ah ecco ecco le pie ladre no 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 andare lì che ti impiccano me lo dicono degli amici preti capito andare lì che ti impiccano le pie ladre comunque sì hai capito e quindi prete o spacciatore sì oppure puoi andare anche ho un'altra parrucca con cui vado a teatro perché a teatro io vado spesso essendo pubblico di teatro abituato a vedere gente di teatro magari tu sei lì nel primo tempo di uno spettacolo e arriva uno straccetto che arriva un foglio di carta che arriva da dietro così mi fa un autografo dico scusi un momento signor stiamo guardando è per mia nipote Luigina dicono sì vabbè insomma allora per evitare queste cose qua e soprattutto per non andare a fare i complimenti ai miei colleghi quando hanno fatto una cagata perché l'amico attore ti invita a teatro mi viene a vedere mi viene a vedere poi magari vedi una roba terrificante dico minchia adesso devo andare pure a fargli complimenti allora mi travesto così però ti posso passare ecco avete amici attori allora non frequentate proprio la feccia dello società allora quando tu hai un amico attore e che poverino alla fine lui immagina ha fatto una cagata pazzesca tutto sudato allora tu devi dirgli quanta energia quanta energia poi tra te e te pensi sprecata però non glielo dici capito lo vedi questo a noi ci serve oppure un'altra cosa mi hai dato delle forti emozioni veramente delle forti la voglia di andare a cagare di fuggire di gridare aiuto quello lì però sono forti quindi tu non menti neanche te stesso poi c'era la famosa quella famosissima della della grande attrice italiana non la ricordo più no niente niente la puoi dire dopo se ti torna in mente tanto come hai capito qua no 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 non mi ricordo più il nome dell'attrice italiana vabbè Stefano aveva anzi o io era andato a fare i complimenti agli attori e allora apriva la porta del primo bravo la Paola Borboni bravo 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 forte forte così tutti sentivano l'ultima porta era il cesso il più bravo di tutti e l'aveva fatta per capito per far capire agli altri che erano delle merde capito Sara Borboni bellissimo Paola Borboni Sara Bernard e un altro ma c'è questa domanda dimmi hai fatto riferimento ai tuoi capelli sì ma come sono quando ti svegli quando tolgo il bigolo ah c'è c'è bigodo ah c'è di notte dormo col bigodo ah sì no no sto su con il gel di agra ah certo tutta la notte sto su me lo sveglio il bello dritto sono sempre così quindi certo d'estate ci metto il gel d'inverno l'antigero basta ho finito le battute del cappello cambiamo argomento ma questa è l'eredità di Guglielmo cioè Guglielmo scuotilancia William Shakespeare perché una delle poche cose serie che ho fatto nella mia vita è stato il sogno di una notte di mezzistrata di Shakespeare e facevo Puck e Puck e Puck ci aveva secondo il regista dice trovami una pettinatura un po' divertente allora mi sono rasato tutto lasciato sto ciuffo così mi dava un po' fastidio di giorno allora col gel lo tiravo su e le mie colleghe che carino allora l'ho tenuto e praticamente siamo arrivati questo era nel 95 96 e praticamente poi nel 2000 è successo il one man show quello che mi ha cambiato la vita da Montreal a Parigi eccetera eccetera e in televisione a Parigi per promuovere lo spettacolo mi mandavano nei talk show quelli soliti e quindi i francesi subito il giorno dopo mi riconoscevano per la strada ma non è che si ricordassero il nome o il trasformista eccetera l'italien avec la tour e fell sur la tête capito per cui ho avuto il gimmick you have to have a gimmick devi avere un trucco per essere ricordato capisci eh vedi io però quello non posso fare per esempio ne devo pensare un altro tu spargi voce qualcosa che nessuno può controllare di persona farò così come ti chiami tu sul palco no Daniele mi chiamo Daniele Rocco diciamo Rocco perché eh perché lascia perdere e così la gente dice ma capisci pensa Rocco sui freddi tu dici eccetera eccetera ho delle doti nascoste eccetera eccetera e invece in realtà è Rocco Papaleo ma non lo sa nessuno lasciamo tutti col dubbio quale Rocco sarà io ho questa coperta Stefano ha questa coperta andiamo in giro con questa cosa dovunque Stefano mi vuoi chiedere quella cosa oddio devi andare in bagno devi andare in bagno lui deve andare in bagno ah sì era questo vai sull'erba mi raccomando prenditi questa soddisfazione qua dietro davanti a tu vai questo è un classico no no perché anche là dietro abbiamo il bagno chimico però scusa è la soddisfazione di farla sull'erba certo è più bello non c'è la neve peccato perché pisciare sulla neve è ancora più bello dal primo piano sulla neve ricordo la mia infanzia ah sì dal primo piano non riuscivo a scrivere viva la Juve perché non ci arrivavo però la v la facevo la dubbio sì ma che ti volevo dire vabbè come è stato l'ho chiesto cosa fai domani cosa fai domani domani dove vai cosa mangi tu mangi io un tubo faccio la dieta della suora ah sempre per tornare alle tue origini prete e suora comunque tornano sempre riso di giorno carne e sangue di notte davvero funziona cioè vuol dire carboidrati di giorno ah ok e proteine di sera che ha mangiato tipo ieri oh ma ieri oddio mi fai una domanda se il mio neurone non ha più quella capacità di arrivare oggi 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 ho mangiato il pesce spada con limone e minestronzo e buono basta buono sì e di sera la pasta la pasta alle vongole col formaggio parmigiano non sono morto fulminato e che cazzo allora chi se ne frega ma se mi piace così scusa ah certo se mi piace con le pastiglie valda me lo mangio con le pastiglie valda scusa la pasta alle vongole una volta mi hanno cacciato fuori da un ristorante perché ho chiesto la pasta alle vongole con il parmigiano qui nel mio ristorante non si fa ma io mi fai fuori così mi hai rimascherato non ero un prete ero proprio normale cuoco romano in Svizzera però il DNA era romano qui non si fa non ho per carità ma la mangio così sempre pasta alle vongole si mi piace da fastidio non è neanche una cosa così romana che dice non so perché la gente c'è con la pasta alle vongole quando non sta sul mare dovrebbe essere questa è la vongola di montagna famosissima c'è gente qua che si arrabbia se ci metti il formaggio sopra come i pugliesi il parmigiano perché i pugliesi pure si arrabbiano ah si i pugliesi che pure sono popolo anche molto di mare si diventano pazzi se metti il formaggio col pesce allora non sono solo no no i pugliesi sono così per qualche motivo io non sono cioè tipo una bella pasta cozze e pecorino buona sepi e pecorino cozze e pecorino ah buona non ho mai sì no devo dire è difficile da fare perché il pecorino ti si straccia però se viene pecorino scappa perché è giovane sì vabbè c'è gente che voglia questa cosa indignata non sapete non sapete cosa vi perdete che cosa mi sono perso io invece no questa cosa niente niente questa cosa è importante sembra che ma non succede mai un cazzo e invece l'altro giorno a pranzo vi hai raccontato quella cosa la vuoi ti fa di raccontarla quella 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 cosa che vi raccontato l'altro giorno ne racconto tante era un'aria un'aria sì avevi raccontato ah sì no 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 sì sì no vabbè è una cosa che non ti va secondo me ci sono dei bambini yes no questa è una cosa perché allora allora ci stava ci stava un libretto sulle bancarelle tanti anni fa che si ma al canzogliere goliardico costava mille lire che erano tutte le canzoni e le poesie che venivano da tutta la letteratura goliardica che si usava dal 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 seicento in poi eccetera eccetera comunque fiorì questa letteratura specialmente all'inizio del ventesimo secolo e quindi il libro si chiama di solito I figoni in culide per chi ha fatto gli studi del classico I figini e I naulide diventa I figoni in culide e poi ci sono anche altre amenità tipo la poesia anzi la favoletta la rosa dei venti questa ci sono le parolacce mi trovi una musichina un po' favoletta una cosa un po' notturna tipo il papà che si rivolge al bambino allora la rosa dei venti questa va benissimo guardi allora è una poesia in rima baciata allora tu fai il bambino che ti viene bene certo sono anche la copertina brava tanto la copertina vuoi attaccarti a qualcuno no 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 fin da quando il mondo aveva solamente Adamo ed Eva era in voga in tutti quanti un riparo qui davanti ma nessun pensò che strano di coprirsi il deretano e così dall'orifizio per bisogno oppur per sfizio calda rietta prima oppressa variamente viene trasmessa un bel peto giornaliero intonava il vato omero scorreggiava il re di troia finché un dì tirò le cuoia si sapur che dal cavallo fuori usciva vento giallo e Penelope da sola ingialliva le lenzuola con gran pacca sulla trippa scorreggiava pure a grippa cicerone per ore intere chiacchierava col sedere e coi peti le vestali oh ci spegnevano i fanali poetica scorreggiavano Firenze per poetiche esigenze scorreggiava assai felice la dolcissima Beatrice ed il sommo padre Dante le annusava tutte quante teatrale con un dito pirandello si tratteneva il venticello fino a che tutto ispirato e quel ventre dilatato liberava gli ingranaggi dando fiato ai personaggi musicale era il peto della ida micidiale insetticida fece strage di ogni mosca la scorreggia della tosca scorreggiava butterfly aspettando i marinai patriottica scorreggiava garibaldi le camicie prese ai saldi e dall'istituto luce ce le proiettava il duce vabbè concludo concludo vabbè arriviamo voi 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 donzelle più educate che le fate soffocate e talora un po' farcite non sentitevi inibite non è vile di una reggia qualsivoglia vil scorreggia quindi è logico e sicuro che scorreggi pure Arturo bellissimo ma sì ma ma queste sono queste sono le le poesie anche che ho le cose che trovava Paolo Poli quando nei bis andavamo a vedere i suoi spettacoli nei bis quando lui prendeva gli applausi dopo lo spettacolo noi sapevamo che faceva i bis con le chicche porcaccionesche della letteratura italiana che non so una poesia sul pisello chi l'ha scritta Palazzeschi ma va eh l'ha scritta Palazzeschi lui andava a trovare delle cose tra me e per esempio i dubbi amorosi dubbi amorosi Pietro Larettino terza terza Arezzo l'Arettino di Arezzo sì ecco allora all'Arettino Pietro era un gaudente era uno che a cavallo del 500 600 faceva la tournée in tutte le corte d'Europa sollazzando i principi prendendoli per i fondelli eccetera eccetera allora poi si arrabbiava una specie di sgarbi dell'epoca eccetera e scrisse dei poemi cavallereschi dei sonnetti lusuriosi e anche i dubbi amorosi i dubbi amorosi allora Paolo Poli che era un attore con un birignao vabbè voi non lo ricordate ma parlava un po' con la voce così tipo una volta si diceva che Benedetto Croce era Mussolini da giovine adesso si dice che Paolo Poli Arturo Brachetti da vecchia lui diceva delle cose così e quindi con questa voce qua diceva delle cose tipo dubbi amoroso sul cazzo cominciava così da qui in giù tutta discesa va bene sul cazzo che rizzato aveva fracarlo giù dal balcone cascò suor Margherita le ruppe il cul ma le salvò la vita dubbio doveva perciò dolersi o ringraziarlo oppure poi basta poi basta va bene l'ultimo poi basta allora un altro svegliossi la badessa in grande foga sognando di mangiare rise giuncate trovossi in bocca il cazzo dell'abate dubbio peccò dunque di gola o di lussuria 1603 belli svegli oggi queste cose non si possono più fare non si possono più fare questo non lo puoi più dire no 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 non lo puoi più dire non sono più quelle rime di una volta no già la rima si è un po' persa e poi questa rima baciata deve avere il consenso eh certo esatto bellissimo bellissimo un applauso al consenso giustamente giusto siamo tutti hanno applaudito al consenso e prima al duce eh quello purtroppo non volevo farlo è così ma il vento è quello eh sì di questi tempi ma tu c'hai mai avuto problemi di questo tipo cioè che t'hanno detto questa cosa ma io se non la fai cioè che non dico censure però censura boh beh per esempio girando il mondo ti accorgi che non puoi fare le stesse cose io non parlo tanto nei miei spettacoli per quello mi sfogo adesso perché poi il spettacolo è molto visivo eccetera eccetera però ho dei pezzi eh a un certo punto in Corea andiamo in Corea e a un certo punto uno dei personaggi perché lo spettacolo l'uomo dei mille volte faceva 80 personaggi uno dei personaggi era un bambino allora questo bambino che era sui ero sui mie ginocchia con i piedini quali eh il costumino carino da lontano sembrava proprio la proporzione di un bambino facevo così no e poi facevo e peggio ancora facevo stop stop sa prova generale ma sei sicuro che vuoi fare queste cose qua dico no che cosa è volgarissimo dico vabbè non mi metto il dito perché capisco no no tiri la lingua dico e allora è tremendamente volgare ma perché stai esponendo un organo interno e allora è come se avessi fatto capito uguale dico no no vabbè allora non lo faccio capisco quindi tu giri il mondo e ti accorgi che delle cose che per noi sono banali gli altri posti possono essere volgari in Spagna in Spagna a un certo punto facevo un torero un personaggio di un torero e a un certo punto dico ole tengo una corrida nello spantalone per dire una cagare mi fa no alla generale no ma non puoi dire questo in televisione perché no perché tu hai detto che tiene una corrida nello spantalone ma sì era per dire che c'è un po' di movimento laggiù no 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 perché una corrida è un'eiaculazione capito ah bello che dicono corrida eh sì una corrida no ma non volevo dire questa io volevo dire quella col ah ma devi dire corrida de toros ah ma quindi scusa allora ho detto una corrida de toros nello spantalone e qui in la corrida di Corrado per gli spagnoli era una cosa era un programma incredibile il format non può essere portato nella lingua spagnola quel format lì non deve cambiare titolo può cambiare contenuto a questo punto sì certo oppure potrebbe anche funzionare tieni il titolo no ma c'è c'è un'altra di questa tipo negli ultimi tempi anche perché adesso c'è tutti questi discorsi pure sul tipo sull'appropriazione culturale tu magari ti vesti eh sì io ci sto pensando adesso perché sai tanti personaggi che faccio devo fare capito il cinese il giapponese è chiaro che mi metto un costume cinese ma si incazzeranno non lo so dovevamo andare in Cina prima del covid quindi ma il cinese non c'era più come personaggio mi pongo dei problemi adesso sì devo stare un pochino attento però finché prendiamo noi italiani prendiamo per culo gli italiani va bene poi quando andiamo appena pisciamo fuori del seminato bisogna stare un po' mi piace pensare che quello che fai tu sei abbastanza cioè abbastanza tranquillo comunque sia cambi 200 costumi fai 80 personaggi dico il giro del mondo faccio un numero che è il giro del mondo no tutti i personaggi devo fare un africano un cinese un giapponese un peruviano devo farli e li devi caratterizzare è il giro della Valparana non so rimaniamo qua capito eh sì sì me lo faccio sponsorizzare dalla regione Veneto capito no no mi faccio eh c'è un esponente tra l'altro non ero mai venuto qua sui Colle Eugane bellissimo belli infatti sì 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 infatti se l'avessi saputo vuoi un po' di copese vuoi pensavo che fossero tipo rapallo capito invece no invece eccoci senti ma c'è un'altra cosa che ci hanno che ci hanno detto ci hanno detto ci hanno detto le nostre fonti un ospite Wikipedia no 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 questa è una persona che c'è stato perché ci hanno parlato della tua casa oddio che è una casa c'è una serpa in seno ti dico la fonte uno Iago in famiglia noi non abbiamo deontologia quindi sputtaniamo le fonti no me l'ha detto Dado ok che è venuto a casa tua e c'è una casa particolare ah sì sì non te l'ha detto Dado perché poverino è morto già sei anni fa però a Davide te l'ha detto forse no Dado un altro Dado Dado il comico certo chi è che è morto oh no l'amico mio infatti c'era rimasto Dado scusa Dado ti voglio bene tanti auguri chi è Dado viva la vita no perché no Dado ho capito quel Dado lì con chi ho parlato tutto questo tempo avevo un amico che si chiamava Dado però capito ci dispiace non volevamo era già e invece quel Dado lì no Dado sì sì mi manda ogni tanto i messaggi sì Dado è venuto a casa mia sì c'è una casa un po' speciale perché c'è due passaggi segreti muri che si spostano la libreria che gira come Indiana Jones ma non fatto alla cazzo fatto bene capito vai in cucina non trovi il frigo dici beh il frigo no poi apri un armadietto c'è la pasta invece dietro c'è il frigo nel frigo c'è della roba vera e della roba finta io so qual era la roba finta gli amici non lo so le uova sono vere sono finte non lo so dico prova le sbatti sul tavolo se rimbalzano sono finte ma davvero poi lo faccio rimangono impressionanti ma c'è una bottiglia di ketchup tiro su pronto il telefono capito tutto così ma davvero sì ma perché da vecchietto vero quando avrò ultra 80 farò così il giro della casa di Arturo Brachetti con il tè quattro pasticcini 30 euro cash capito rigorosamente cash pensione ciao ma per fare per allestire una casa così con i passaggi segreti che tecnici chiami cioè chi chiama per dire oh voglio la libreria i muratori gli altri sono rimasti un po' così poi ho soldato degli amici scenografi alcuni pezzi sono stati fatti dentro la casa dentro il muro che si sposta l'hanno dipinto fatto con vetro resina nella casa perché non sarebbe entrato da fuori un muro 4 metri per 2 a 70 ma come si sposta cioè c'è un a mano sì sì c'è posto un libro di quelli no non c'è no io odio i telecomandi no sono metà a posto la candela se mi dicono sempre così si può fare stupendo no questa è una citazione questo lo so non è che mi non lo so questo è l'unica almeno questa questa lo so no poi sì ecco poi c'è un bagno c'è un bagno c'è un bagno Keith Ehring un bagno tutto sembra fatto da Keith Ehring con le cose sui muri un bagno di Magritte con tutto il cielo e poi il bagno più interesting è tipo una cappella tipo una chiesa piccola con tutte le pietre per terra c'è un quadro sembra Santus Francescus poi invece leggi bene c'è scritto Santus Francescus patrono degli stitici l'ho fatto dipingere apposta nell'atto di tirare la catena davanti a una vetrata di carta igienica sembra una roba del 400 e poi dici ma perché ti sei fatto il bagno così ma dici ma tu consumi lì dico certo cagare in chiesa hai presente l'aggodimento infatti mi parlava di questo lui l'ha descritto come un cesso gotico si un po' gotico ti riconosci in questa definizione ma io ormai non ci faccio più caso invece se ci entri c'è anche un quadro vero della Vergine della Macaregna vero è perché esiste la Vergine della Macaregna non la donna spagnola però io me la vedo me la immagino tutta coperta di veli poi a un certo punto mi piace così immaginare no perché niente è ciò che sembra nella vita reale è tutto un tromploi tromploi io ce l'ho ci ce l'hai sì tromploi io l'ho capito sì siamo a due due cose le ho prese la realtà interpretata e tu quindi non questi applausi di compassione ancora più umilianti incoraggiamento però tu ti ritrovi non è che ti sbagli sì io mi ritrovo sì no non mi ricordo poi c'è la telecamera da casa mia vedo il tempo che fa lo vedo qua se vuoi vedere adesso che tempo fa Torino c'è la telecamera sul tetto e vedi se piove o non piove capito mi diverto vedi i ladri che mi stanno ciullando no 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 se un ladro entra dentro non so se si trova capito c'ho due tigri bellissimi in grandezza naturale due peluche enormi Moira e Liana la cugina capito la Moira l'ho conosciuta io personaggio straordinario sì ma sì tutta questa generazione che era un folle no la Moira la Moira la Moira la Moira la Moira la Moira lei arrivava quando ormai da vecchietta no la portavano in giro come un monumento del circo e alla fine dello spettacolo di Moira la facevano uscire sul maggiolone c'era questo maggiolone in cui usciva fuori e lei dal maggiolone che aveva il tetto apribile anzi era proprio decapottabile si alzava in piedi e salutava e gli facevano fare il giro della pista tre volte allora quando il circo era pieno ciao ciao a tutti ciao a tutti allora quando invece il circo era mezzo vuoto perché succede domenica sera chi è che va al circo allora faceva ciao ciao genti ciao sedi ciao sedi ciao sedi ciao genti ciao sedi ciao sedi ciao genti quelle cose bellissime era poi c'aveva questa truccatura no si dice ma il marito l'ha mai vista struccata non si sa questo specie di panettone qua con questo trucco tatuato no bellissimo la Moira c'aveva la Barbie Moira in casa c'aveva questa casa meravigliosa piena di bambole questa roulotte lei c'aveva la casa ma non ci voleva stare dice che barba apro la finestra c'è sempre lo stesso albero invece facendo la tournée cambia il paesaggio viva la Moira bel personaggio si senti a proposito di personaggi aspetta vorrei chiudere questa sulla casa non so se voi cioè se voi tagliamo non so c'è una cosa ma detto anche che dietro una parete non so se è quella parete lì hai tipo dei una sorta di di attrezzi di cimeli cimeli sessuali però antichi no antichi 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 ah no c'è un piccolo cabinet di curiosità ah ok antichissimi usati però spero di no cent'anni fa no 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 ho una stanza in cui c'è un piccolo cabinet di curiosità con delle robe degli automi mezza scimmia robotizzata però adesso le batterie sono scariche non lo fa però comunque a un certo punto nei miei giri di mercatini perché tutte queste cagate entro nei mercatini ho trovato una cosa bellissima del 1900 e si apre lo scatolino e c'è scritto farmacia tal dei tali chicaghi rectal dilatators chissà cosa vorrà mai dire e c'è tutta una serie di tappi di alluminio proprio aerodinamici dal numero uno al numero quattro perché si comincia sempre così perché la signora capi la signora della borghesia bene di Chicago del 1906 si consolava così e se tu leggi a che cosa servisse dice vabbè morò di qui e poi comincia asma depressione ansia un tappo in culo ciao amiche andiamo a prendere il tè capito probabilmente era così capici si consolavano con poco pensa all'alluminio con cui ti fai gli occhiali invece è un più nobile come dire valore per la signora 1902 Chicago dimmi no no dico i progressi che ha fatto la medicina riflettevo su questo semplicemente oggi come le parrucche ho letto l'altro giorno le parrucche inguinali le parrucche inguinali non sai niente questo proprio no meno quello questo proprio no se te lo ha tuttora viaggia 80 cm dal suolo quella lì dovresti saperla no invece manco quella allora ho letto su una di queste cose che ti arrivano su tiktok che esistevano centi passi anni fa delle parrucche inguinali indossate dalle prostitute perché all'epoca avere dei pelazzi era una cosa sexy chic no e quindi le prostitute che invece si rasavano per igiene per essere sessualmente appetibili si facevano fare dei triangolini di peluche con peli di pecora montone che non non venivano da lì e quindi c'era la nostra parrucca inguinale bionda rossa seconda per essere pandan ovviamente se no uno dice no no sei una finta bionda sei una finta bionda no caro è capito invece no non riesco a capire se stavano su con degli elasticini o con dello scotch o del doppio scotch doppio non lo so quello non deve essere perché si chiamano Merkins Merkins voilà c'era anche la foto del tipo con un di plian con tutto otto di queste different shades capito il rappresentante di cosa fai tu nella vita il rappresentante di perrucca inguinali interessante capito porta a porta bella signora non so se certo porta a porta lampione a lampione dipende perché se si fa il suo genere il mercato era lì capito e il business era quello stavo pensando se nel terzo cassetto di Belmondo c'era anche c'era anche quello il suo parrucchino inguinale rimuesta lì anche lì la sarta non guarda non guarda è quello che succede succede ok però l'unica cosa strana strana che ho capito sono a curiosità sì c'è una bottiglia con dentro una ballerina un carillon di una bottiglia di liquore con dentro una ballerina c'è c'è una lanterna magica che proietta la Notre Dame di Montreal una cosa così c'è sto pensando perché adesso è difficile c'è il pesci diavolo pesci diavolo è una razza hai presente razza sì una specie di bravo una specie di piccola come si una cosa quelle cose piatte che stanno nel Mediterraneo non è una soglia è una specie di di la manta sì una specie di manta ma piccolina lunga 40 centimetri ebbene questa qua se la giri dall'altra parte se la catturi e la giri dall'altra parte c'ha tre bocche e invece sembrano una bocca e due occhi allora ai tempi tagliavano la catturavano lo facevano seccare poi tagliavano due lembi qua del povero pesce sembrava avesse un viso con due occhi una bocca tutti i dentini così e lo chiamavano il pesci diavolo e veniva esposto nelle fiere e tu ce l'ho lì ci sa mai appunto i famosi ladri non è abitato il mio appartamento la mia casa non è abitata da spiriti però se arriva io c'ho il pesce diavolo tu sei pronto e senti una delle posso andare avanti oppure sei no no che vuoi dire no vabbè poi lo scopriamo Matteo non lo dice io vorrei sapere da tutte queste cose chi ve la come? no no te l'ho detto sempre lui pezzo Dado io lo chiamo dopo l'ora no tu hai delle in più di un museo hai delle statue di cera che ti sono state dedicate e anche una cosa anche le statue si cambiano d'abito come fanno le statue a cambiarsi d'abito perché tipo ogni tre minuti non è che c'è uno allora io ho ricevuto tanti premi e mi fa piacere tipo francesi mi hanno fatto chevalier des arts quando l'hanno saputo gli italiani mi hanno fatto commendatore poi mi hanno dato anche la laurea ad honorem dopo vent'anni ho fatto l'accademia di belle arti ma facevamo sempre sciopero quindi la laurea non l'ho mai preso allora dopo vent'anni mi hanno dato l'honoris causa quindi adesso sono dot cav com senza aver mai fatto un cazzo nella vita capito dot cav com allora questi dici sono i premi più belli no il premio più bello che ha avuto è la statua di cera perché a Parigi quando nel 2009 il museo Grevin dice mi chiamano dice avremo deciso perché c'è un board di fare farti una statua di cera ah grazie perché loro devono avere tipo sei cantanti otto politici diciotto sportivi eccetera c'è un po' di un elenco per essere un po' di tutto Marcel Marceau che era il mimo aveva la sua statua ma era già morto da mo chi mettiamo al posto di Marcel Marceau mettiamo Arturo Brachetti mi chiedono vuoi essere membro anzi vuoi essere un inquilino del museo dico sì allora devi venire per fare la séance foto va bene perché si dividono in due i personaggi delle statue di cera gli immortali tipo il papa Trump Biden quelli non vanno a fare le foto perché non hanno tempo quale papa però quello diglielo quale papa quale papa dai Stefano no io c'ho la mia battaglia questa è un'altra cosa che volevo volevo Ratzinger però non c'è più ah beh sì meno ma vabbè comunque sia poi ne parliamo e comunque sia qui c'è il papa del resto quello dice il papa del resto ma non è andato a fare le foto sono sicuro allora loro decisero di fare una statua allora io ho proposto perché non facciamo una statua che cambia di costume gli facciamo una statua su due piedi con una mano qua l'altra lì e poi la creiamo meccanicamente ruota è vestita da da clown quindi si vedono si vede dal ginocchio in giù ruota e la testa sta ferma i piedi stanno fermi il corpo ruota e quindi c'ha il davanti come il di dietro e di qui era il giorno di dietro la notte e quindi per duemila volte al giorno questa statua ogni 20 no ogni minuto si gira eccetera eccetera e quindi andiamo lì per fare la séance vuol dire che ti porta in uno studio quarto piano del museo in una saletta en culé capito vuol dire proprio compri no remota e ti fanno allora ti mettono un vestito con i bikers il cannottiera tipo visita militare molto aderente tutto allora ti mettono sulla pedanina e comincia a fare le foto la pedanina gira eccetera eccetera poi ti prendono le misure ma tipo 10 persone intorno no allora l'un è 48 mm l'altro 30 tutte le parti del viso eccetera e passa il tempo poi ti portano in un'altra stanza aprono dei cassetti pieni di occhio questo qua no un po' troppo 50 occhi fino a quando trovano il colore giusto del tuo i capelli eccetera dopo due o tre ore apportano questo macchinone nella stanzetta e che c'è ah c'è il scannerizzatore dicono il scannerizzatore che c'è allora è uno scannerizzatore tu ti metti lì in posizione girano piano piano e quello ti scannerizza in tutti i tuoi volumi per cui dicono tra vent'anni apri il file come era tal d'Italia Arturo Brachetti nel 2009 mettono il dischetto non c'è più ma aprono il file e lo vedono tutto con i vettori in 3D in tutti i suoi volumi dico ah interessante posso andare alla tua legge prego vada sono andato in bagno mi sono riempito il pacco di Kleenex e poi sono venuto per la scannerizzazione perché mi sono detto guarda se questi tra 30 anni aprono il file dico Arturo Brachetti era magro poverino però cazzo hai visto lì sotto che roba mi sono preso una vendetta postum una soddisfazione postum bellissimo e quindi beh si si cambia non è niente di edificante però io per certi versi sono rimasto quattordicenni come Aldo Giovanni Giacomo sai che ho fatto le regie di tutti gli spettacoli di Aldo Giovanni Giacomo come lavorare con Aldo Giovanni Giacomo è tipo professore di terza media capito arrivi prove ore tre ore quindici va bene io arrivo le tre vanno dieci poi arriva uno arriva Aldo sempre in ritardo così arrivano e cominciano a parlare dell'Inter ti lei l'hai visto ieri ogni giorno parlano dell'Inter un'ora come si può ogni giorno trovare delle cose da dire sull'Inter per mezz'ora tre quarti un'ora allora dopo un'ora dicono oi ragazzi sono le quattro adesso cominciamo poi cominciamo a provare degli sketch eccetera eccetera cominciamo a provare lo sketch dopo alle cinque e mezza un'ora di lavoro ciao basta ciao ci vediamo domani torno a casa Aldo scappa Aldo si nasconde dietro le poltrone del teatro negriero negriero ma che chiama così così perché sono bambini di 14 anni perché arrivano dai cinquantenni all'epoca erano anche di meno di anni poi pian piano il livello dell'età diminuisce con l'Inter capito quello serve all'Inter fa scendere l'età media e diventano dei quattordicenni scatenati e lì vengono fuori le migliori idee perché quando tu diventi ragazzino lasci libero il cavallo pazzo allora a quel punto le idee più folli vengono fuori di cui molte anche scartate per carità ma loro come li hai conosciuti come si è entrato in noi? perché io non li conoscevo poi il loro produttore Paolo Guerra vuole produrli e chiede a loro chi volete come regista e loro dicono erano molto umili lo sono ancora adesso persone straordinarie nonostante il grande successo ma se potessimo avere Arturo Brachetti perché loro mi avevano visto in uno spettacolo al Ciac tipo nell'89 giù di lì allora Paolo Guerra viene da me e dice ma la faresti la regia questi tre nuovi comici dico ma fammeli conoscere andiamo a vedere il circo di Paolo Rossi e loro facevano degli sketch fantastici proprio da da scompisciarsi da ridere dico cazzo perché loro sono buffi non solo sono comici perché i comici a volte i comici si scrivono le battute a tavolino invece loro sono buffi loro sono divertenti hai presente quando entra uno in una commedia apre la porta e dice il pranzo serve e tutti ridono che fortuna quando hai questa aura comica e loro ce le hanno e quindi vado a vederli e dico fantastico allora intanto questo era tipo giugno dico mandatemi il copione perché io come regista devo farmi venire delle idee mi mandano un foglio scritto neanche a macchina proprio scritto a mano tipo hai presente il compito della terza B quando la professoressa fa di chi è questo foglio perché tutto campo di guerra croci blu croci russo eccetera eccetera e quello era il copione c'era scritto gli astronauti i neonati Dracula e dico cos'è sta roba li chiamo giù al telefono è il nostro spettacolo ma in che senso e sono degli sketch che poi dopo noi improvvisiamo improvvisiamo in che senso sì perché poi improvvisiamo sopra dico scusa ma noi facciamo teatro non facciamo cabaret nel cabaret puoi dire sì dai dai fai partire la musica puoi fare delle cose così ma uno spettacolo di teatro il tecnico deve sapere la battuta con il quale tu chiudi lo sketch far partire la musica eccetera eccetera e così ha detto ah cazzo hai ragione allora Paolo Guerra affittò una specie di dopolavoro ferroviario e facciamo adesso non si chiamava brainstorming facciamo neanche gathering è una parola nuova una ricreazione in cui improvvisiamo questi famosi sketch e io scrivo le battute non c'era la telecamera quindi c'era loro tre su un predellino io Gino e Michele sugli sdraio dietro a ridere come delle iene e noi e io che scrivevo su questo libretto tutte e io l'ho ritrovato il libretto come ti chiami Samantha proviamo no Deborah proviamo Deborah girati e Giacomo sì hai vedi questo numero tutte queste battute ormai che sono dei must degli iconi ce l'ho tutte scritte nel libretto che glielo ho anche fatto vedere dico amici quando vi morite su ebay eh ragazzi comunque sia ce l'ho tutte lì ed è bellissimo perché vedi proprio la genesi di uno sketch e poi da lì ci ho aggiunto tutte le cose visive c'hai il parto con il palo loro che sbucano fuori dal cerchio che è la metafora di quella cosa lì e poi il biberon tutte le cose visive le ho poi aggiunte io come regista le musiche abbiamo montato i costumi fatti fare dal costumista la scenografia era una scenografia che rimpiccioliva sempre di più perché l'idea dei corti era che dallo sketch più lungo si andava allo sketch più corto ma se lo vedevate a teatro tutta la scenografia diventava sempre più piccola e alla fine lo zero comico assoluto era Tafazzi oh 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 si dà e durava quattro secondi ed era in un quadretto proprio poco più grande di Giacomo bellissimo che poi sono anche adesso sono sempre io non dico che sono amici ma essendo coetane sono veramente ciao come vai Giovanni sto piantando i pomodori perché lui sa quando voglio sapere una cosa su una pianta la chiamo Giacomo Giovanni Giovanni invece Giacomo fa le conferenze fa teatro con la moglie bravo Aldo sta a casa guarda i cartoni animati mi ha detto la moglie no fa altre cose fa altre cose che bello vai no vai vai continuo ma tu c'è chi altri comici hai conosciuto di quell'ambiente o che seguivi ma allora tipo Raul Cremona siamo anche lì coetanei perché veniamo dagli stessi club di magia Michele Foresta che è bravissimo anche lui questo entra nel microfono rompiamo le balle quelle che guardano il podcast è al vento e poi Benigni per esempio che è una persona timidissima capito che uno pensa Benigni Benigni è una persona molto umile carino gentile non più di sei a tavola mi raccomando quando conosci le persone e poi mi ha raccontato le mie amiche colleghe anziane mi raccontavano di Totò per esempio io ho avuto la fortuna di lavorare con Marisa Merlini e gli chiedevo ma tu hai lavorato con Totò ah no Totò non raccontava mai una battuta nella vita non stava con gli occhiali da sole fumava queste 40 50 sigarette al giorno e la gente gli diceva allora principe ci fa ci fa una battuta in questo momento Totò non sta qua mi spiace ma Totò non sta qua era molto molto serio molto e poi c'è proprio allora uno dice qual è quello vero Totò o il principe dei Curtis tutte e due ecco la vita è interessante per quello ma invece aspetto hai parlato di questi club di magia che frequentavi con Forest e come erano ma ancora adesso ci sono sono dei club tipo dopo lavoro però ci sono i più carini meno carini dove tu vai e hai a disposizione una biblioteca con tutti i libri adesso con internet vai molte cose le puoi imparare lì però le impari male perché non c'è il rapporto con il maestro il maestro dice no no non tenerla così è così la carta così bravo così no non si sente il rumorino ecco quando c'è il rumorino e poi impari a fare veramente il gioco di magia perché il gioco di magia è un numero c'è uno che dice buonasera ciao prendi una carta guardi in faccia la gente invece adesso si riprendono le mani fanno queste cose incredibili acrobatiche con le mani ma non c'è più la faccia perché metti un video di te stesso su internet dove non ti si vede nemmeno in faccia se vuoi cuccare qualcuno come qualcuno e gli fai ciao sono io mi riconosci scusa e tu hai allievi o solo imitatori allievi no per ora però perché i ragazzi adesso hanno molta voglia di imparare tante cose però spesso nel bene e nel male per esempio internet ti dà la possibilità di vedere filmati del 1930 del 50 del 2010 puoi vedere il campione del mondo dell'82 puoi vedere il suo numero puoi imparare eccetera quindi hai una grande informazione che ti viene data gratis nello stesso tempo ti preclude il fatto che tu devi immaginare delle cose perché te le trovi tutte lì capisci? è quel che fa l'intelligenza artificiale dove attinge a miliardi di informazioni e ti produce una cosa che sembra nuova ma infatti è il frutto di tutti questi miliardi che noi non potremo avere nella nostra vita per tutte queste informazioni e quel che fa adesso magari il ragazzo che dice Arturo ma magari vengono i ragazzi guarda che ho avuto un'idea ho avuto guarda qua ho avuto un'idea ti ho fatto un video guardo scusa ma questo è il numero che faceva dei tali nel 1948 no dai e si guarda e ma non ho trovato su internet e no perché sta scritto su un libro guarda un po' anche io l'ho visto su internet sono scritte su delle testimonianze allora se tu hai voglia di andare a cercare le cose e poi di inventartene perché quando non hai niente hai la fantasia io sono nato a Torino una città che negli anni 60 era una città in bianco e nero ma io sognavo a colori capito le cose che non c'eri te le immaginava cioè c'era un filo da stendere tra me e il vicino e facevamo la teleferica facevamo passiamo di pomeriggi con un filo da stendere e quattro mollette perché non c'era niente no allora ti obblighi il cervello a immaginare e quindi impari queste cose e quindi la fantasia si sviluppa quando hai davanti questo maledetto foglio bianco e c'è questa sindrome del foglio bianco che ti devi riempirlo e però funziona e a proposito di obbligare il cervello a immaginare c'è una domanda che faccio a tutti gli ospiti che che rapporto hai con la marijuana beh ho un rapporto purtroppo come dire passato perché io quando negli anni 70 negli anni 70 78 80 quasi tutti fumavano allora mi piace vedere adesso questi qua che sono diventati deputati ministri cardinali tutti invece negli anni 70 erano lì pure loro a farsi le canne quindi anch'io mi facevo le canne e vabbè il problema che ho avuto a Parigi proprio in quegli anni lì è che sono andato in paranoia qualcuno è già andato in paranoia no questo sono preparatissimo avevo fumato avevo fumato una canna ed ero da solo ero da solo in casa quindi forse era un po' tristo mi è venuta una specie di malinconia un freddo addosso un po' inquietante allora mi sono messo a letto cominciavo a battere i denti e la cosa più sconvolgente ero lì sul letto con tutte le coperte addosso mi sono visto ma non era un'allucidazione perché non erano funghi era marihuana mi sono visto come dall'alto con ricato sul letto impredolito mi sono preso paura e tutti gli amici di quel tempo dicono ma è un viaggio fuori del corpo dico grazie era solo una mia fantasia ma molto molto viva e quindi mi sono spaventato allora mi sono spaventato erano le tre o le quattro di notte ho telefonato una mia collega che ci aveva all'epoca 40-50 anni fa no 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 vieni vieni su abitava nello stesso palazzo vieni vieni su vieni su allora sono andato da lei lei mi ha messo la cuffia di musica mi ha distratto mi ha si è stretta a me mi ha tenuto caldo dove praticamente la circolazione la pressione eccetera eccetera praticamente ero andato in paranoia e da quel giorno lì se io sentivo qualcuno che si faceva una canna e cominciava ad aver freddo le mani e quindi è finita lì a 22 anni è finita la mia carriera di tiratore di canne grazie grazie purtroppo mi piacerebbe ogni tanto liberare e non hai mai più riprovato? no proprio mi fa paura come quando non so hai fatto tu hai fatto skateboarding io una volta l'ho fatto in Grecia sono imbalzato sui coglioni per 300 metri adesso non lo faccio più volentieri perché il mio cervello subito mi riporta in quel momento davvero tra l'altro il costume si era spostato proprio così l'uovo sbattuto famoso alla grec Stefano non vuoi fare l'altra fai l'altra domanda l'altra canonica no non vuoi farla oddio sempre peggio dai la faccio c'è una rubrica ricorrente in questo podcast si chiama cacare in discoteca per cui sono gli adepti si si loro se potessero se ci fossero una discoteca qua si noi chiediamo agli ospiti se hanno il racconto di una volta in cui sono dovute andare in bagno nel momento peggiore possibile per cui la discoteca quale posto peggiore della discoteca e non deve essere per forza una discoteca ma è mai capitato un momento in cui dice ti prego Dio non qui non ora non adesso e invece lì in quel momento ma sai che mi manca come cercherò di procurarmi questa meravigliosa esperienza no davvero non mi è mai successo ma no a parte in bagno mio dove mi piace cagare lì davanti a San Francesco e la Vergine della Macaregna che è già abbastanza un trip interessante però sono io che decido capisci certo no non mi è mai successo di dover no no non mi è mai successo Vercingetorigi alle porte con la riete ma io lo sento arrivare sento il galoppio di Vercingetorigi e allora dico scusate Vercingetorigi mi sta chiamando va bene quindi c'hai sì c'è un bel deluso no perché è importante anche raccogliere le esperienze di persone che riescono un posto anche particolarmente scomodo non c'è sta scomodo beh sì insomma c'è stato un posto mi ricordo più siamo andati in Cina ci hanno portati poi dopo tu devi capire che la Cina è un paese meraviglioso però mettono il riscaldamento solamente nei luoghi dove uno abita cioè Camerino 35 gradi corridoio 12 palcoscenico 22 poi esci dallo spettacolo 22 tutto sudato corridoio 12 Camerino 35 è così e quindi siamo andati in visita in un monastero e c'era un giorno di libertà siamo andati in un visito e c'era un freddo boia e c'era questo monastero buddista e c'era questo cesso che aveva avuto sicuramente decine centinaia di anni forse perché è difficile per me capire l'età di un palazzo che non ne sia dei nostri europei comunque sì c'era questa terrazza con una casermetta al posto e c'è questo eccesso e davi lì e c'era un buco sullo strapiombo e poi dei sassolini perché tu cacavi poi ti pulivi con la carta e poi avvolgerla con la pietruzza e buttarla giù perché sennò plaf ti ritornava su e ti rimane in faccia capito ti ritornava in faccia e ti ribeccavi la tua cosa e quindi è abbastanza strano non ho consumato però l'esperienza un sassolino l'ho buttato così giustamente in quel paese che vai certo grazie Stefano tu ammetto scaramanzia tu non sei scaramatico no no perché è un trip mentale è una strappola che tu ti crei se non faccio questo succederà chissà che cosa allora è una trappola mentale poi non riesci a trovare dove toccare ferro per esempio qua oddio 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 adesso mi viene male una cosa no io creo magari mi creo delle abitudini perché il lavoro di teatro nonostante il pubblico cambia ogni sera è ripetitivo devi dire quelle cose spostarti cantare quindi si può creare un meccanismo di ripetitività e allora anche in camerino ti trucchi sempre nella stessa maniera allora comincia a avere delle abitudini e poi mi piace romperle no adesso basta faccio una cosa diversa al contrario eccetera eccetera sì ma non ho riti scaramantici ma tipo che rituale hai adesso cioè che abitudini hai se ce l'hai sto pensando no 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 non ho dei rituali mi diverto così altrimenti tipo adesso ultimamente al regio di Torino al teatro regio mi hanno messo in un'opera lirica che cazzo faccio nell'opera lirica c'è un personaggio da fare la duchessa di Krakentorp che è una vecchia duchessa dico ah va bene allora io siccome non ho mai fatto una vecchietta mi divertiva no ho fatto le prove delle voci parlava un poco così mi piaceva sì mi ricordo quando ero giovane con Giuseppe Peppino no Garibaldi sì e tutti quei garibaldi mi stiravo le camicie sai una sudata eccetera quindi mi piaceva questo personaggio e quindi ci mettevo un'ora e passa a truccarmi per essere una vecchietta credibile su internet tu ti faccia vedere la foto e così e così poi dopo una volta truccato ho messo la parrucca e gli orecchini questa imbottitura con il seno il culone eccetera andavo in giro per i camerini a sollazzare gli altri perché ormai diventavo il personaggio e mi divertivo molto tra l'altro ho trovato anche un pezzo di peluche peluche nero c'era un po' di pelo di scimmia nella sartoria ho tagliato un triangolo di peluche mi sono fatto una Merkins me la sono messa lì dove dovere e ogni tanto dicevo sa al capomacchinista non so devo dirti un segreto e l'altro fa eh sì sa il mio corpo racchiude delle sorprese e lo sai immagino immagino devo dirtelo a te non sono una vera bionda tiravo su e c'era il triangolo del bermuda nero capito così poi non ho però non sono scaramanzie così è una cosa di divertimento le mie colleghe vengono a toccarmelo prima dello spettacolo questo certo però vedi antisismico torna su da solo ti capita di annoiarti di fare sempre lo stesso spettacolo ogni sì però tu pensi che ti dai delle sfide no magari c'è davanti a te c'è 1500 2000 persone e tu dici ma stasera c'è la portinaia del nostro condominio c'è una signora che magari non è importante per la tua vita però fai lo spettacolo per quella persona lì per una persona c'è l'amica di mia madre ecco allora fai per l'amica o mia madre con la sua amica allora fai lo spettacolo ma mia madre avrebbe un senso ma l'amica di tua madre dici che te frega no io ho una madre straordinaria tra l'altro che ha 86 anni dimostra anche lei 20 di meno sveglia prende la macchina adesso da Torino va al mare a sola dice ma non passo dall'autostrada perché è noiosa faccio la statale dico vabbè mamma di sera poi è andata è andata come dire va all'università della terza età ha imparato internet come dice lei cinque anni fa dice ehi perché abbiamo una chat noi figli siamo quattro figli dice ragazzi mi sono iscritta a facebook a lui gli ho scritto ma la tessera l'hai ricevuta sì o no e lei poverina oddio non ho ricevuto la tessera allora non vale scusata poverina no non c'è la tessera ah meno male perché credevo di aver sbagliato poi con un mio amico che è Federico Sirian mi conoscete Federico Sirian forse no è un cantautore di Torino simpatico e allora con lui dicevamo dicevo guarda che mia madre cinque anni fa no mia madre si è iscritta a facebook e lui fa è pure la mia lui fa cazzo scriviamo una canzone e abbiamo scritto una canzone che si chiama mia madre sta su facebook che carina la trovate anche su internet su youtube ce la vuoi accennare senza musica admin team così esatto vabbè vabbè è un country blues una strofa no vabbè allora chitarra invisibile che è quella che piace tanto al prodotto che non costa un cazzo capisci mia madre è una magia lei pubblica le foto della mia colonoscopia eccetera eccetera molto bello mia madre adesso tra pochi giorni anzi oggi è Sant'Anna perché mia madre quando arrivano alle giostre in paese deve farsi un giro sulla calci in culo non hai presente certo e poi ci manda la foto lei seduta sul seggiolino delle catene mentre sta facendo il giro e quindi ci manderà le foto perché le giostre sono in questi giorni nel paese e senti siamo quasi in chiusura e ti devo fare una domanda forse allora tu ti chiami Arturo anche mio fratello si chiama Arturo non siete tanti no i cani gati di amici miei tantissimi adesso è diventato anche noi abbiamo un Arturo in casa Arturo tu sai come mai ti chiami Arturo cioè come è stato scelto questo ma perché io mi chiamo Renzo Arturo Giovanni da cui Don Lorenzo capite Renzo Arturo Giovanni quindi mi sono chiamato Renzo fino a 18 anni poi a 18 anni ho cominciato a fare l'artista chiamatemi Arturo sai sai il giovane pretenzioso chiamatemi Arturo mia madre comunque sì come te lo senti Arturo era il mio nonno paterno ufficiale delle regie poste con due baffetti da spaviero così era Arturo quindi Arturo Cagaduro bla 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 tutte sì certo però mi ha portato fortuna vedi perché cambiando il nome mi sono reinventato andando all'estero cambiando il nome mi sono reinventato fa bene se volete andare all'estero sei mesi tre mesi un anno fa bene perché tu ti reinventi ti riproponi capisci se sei timido ti dai un calcio in culo e non lo sei più capisci perché avrai tutti gli amici nuovi nessuno ti giudica nessuno dice oh ma quello lì l'ho sfigato la Renzo la Renzulink no Arturo capito Arturo Arturo dire Gigi però Arturo è bello chic Arthur in Inghilterra un po' così Arthur the Farther Arturo lo scorreggione che bello comunque così è così è ma è pure questo è bello Stefano se vuoi fare un'altra domanda sì ero curioso di questo tu appunto hai parlato del seminario numero di cellulare mi hai chiesto tutto no questo numero di cellulare lo trovi su tutti i cessi degli autogrill ci ha scritto sì i cessi cotici no ti volevo chiedere ma tu hai parlato sei stato in seminario fai Don Lorenzo travestito stavo per dire per hobby ma cioè che rapporto ti è rimasto però quindi con quel mondo lì con il mondo della fede in generale ma io sono spirituale agnostico sai no essendo avendo passato tanti anni a studiare l'illusionismo i trucchi eccetera eccetera le magie ma non solo quelle dei giochi di prestigio anche quelle storiche meravigliose le palle che hanno inventato i nostri antenati per non so per passare alla storia ma palle straordinarie enormi no e quindi mi piace vedere sapere dietro le quinte che poi la meraviglia del fatto di studiare illusionismo impari pensiero parallelo c'è sempre una seconda maniera per arrivare ad un fine col pensiero normale c'è da A arrivare a C devi passare dalla B e vabbè invece col pensiero parallelo quello degli illusionisti da A puoi fare il giro da Z rimombere e arrivi alla C senza passare dalla B quindi mi sono dimenticato cosa devo dire vedi che l'Alzheimer sta arrivando galopando cioè il neurone che ha fatto bing 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 è rimasto frozen lì no dicevamo che le magie e quindi sono un po' disilluso e quindi mi piace della nostra religione anche tutti gli aspetti folkloristici però mi piace vedere per esempio tantissimi documentari sulla fisica quantistica su queste cose qua per cui scopri che l'universo è pieno di misteri la materia oscura che è il 20% di ciò che c'è nell'universo si chiama ancora materia oscura il neutrino che è forse come dire la particella di Dio si dice no quindi io lascio un bel punto interrogativo e sono sicuro che c'è un disegno il grande architetto secondo me c'è però che si chiami Dio Allah o Visnu o la regina di Cala Cala è uguale per me poi ogni religione inventa tante cose diciamo lì la religione indiana c'è un Dio vestito da elefante ho capito loro guardano noi dicono lì c'è uno che nasce un bambino eccetera eccetera poi risorge ogni religione ha un aspetto folcloristico la nostra poi figurati capisci Santa Cecilia con le tette ma quello è solo un esempio ce ne sono tante altre la nostra religione è molto folcloristica molto teatrale gli angioletti che girano tutti i mezzi c'è un teatro la nostra religione cattolica rispetto per esempio alla protestante dove non ci sono statue la nostra è bella sensuale vabbè no 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 adesso mi sfugono capito perché il neurone è un po' stanco capisci ma no perché a fare il giro il tourney per l'Italia vedi delle chiese meravigliose con dei santi che dici oddio oddio ma dai dei patroni di santi incredibili c'è il sante col maiale il sante col cane il santo e quindi mi diverte poi figurati la nostra chiesa è stata maestra per secoli per inventare queste meravigliose storie per far credere alla gente più povera delle meravigliose leggende ma l'importante è il senso religioso capisci cioè questa specie di amore questo voler bene agli altri questo bene che gira come dice il karma io non è che faccio namyoro namyoro rengekyo per trovare parcheggio come degli amici buddisti che trovo parcheggio io lo trovo lo stesso il parcheggio perché ci credo che trovo parcheggio se tu credi fai circolare il bene quello funziona e questo non è una religione è una filosofia però funziona a me funziona allora è una bella filosofia e forse su questa bella filosofia una bella lapide dai vi chiedo un altro applauso per Arturo Brachetti grazie se vi va fate un applauso anche a Stefano Rapone Doniale Tinti a The Comedy Club al Venda e un applauso a voi che non vi vediamo siete nell'oscurità siete tantissimi grazie mille a tutti grazie mille a tutte ah sì sì grazie e vai grazie grazie volevo fare un selfie ma questi sono i miei 55 euro bellissimi questi sono straordinari tienili eh che se muoiono vanno di più un po' di contanti questi questi stasera facciamo il telefone mi venite sì 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 ah bravo tolgo questo sì spogliati o meno sai fare tu dai allora dai bello tutti i rossi sono i nostri amici avete solo il rosso? c'hai solo il rosso puoi cambiare di colore che sembrano ecco se mi sono le porte dell'inferno facciamo il video che è meglio dai perfetto allora eccoci qua saluti a tutti ciao è stata una bellissima serata e qui la montagna è piena di spettatori che un luna no perché quasi luna piena e arrivederci ciao 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 Grazie a tutti.